Buongiorno a tutti e a tutte amici di YouTube e benvenuti in questa nuovissima lezione di questo corso di Blender. Oggi proseguiamo il nostro affascinante percorso nel mondo della post-produzione. Per il capitolare velocemente a che punto di questo corso siamo arrivati, diciamo che nelle prime quattro lezioni di questo corso avremmo fatto un'introduzione a Blender, tanto per capire come muoverci e poi dalla lezione 5 alla 21, se ricordo correttamente, abbiamo parlato di modellazione e dalla lezione 22 alla 39 ci siamo divertiti a imparare ad animare e invece dalla lezione 40 fino alla lezione 49 abbiamo imparato a creare materiali, a settare le luci, la camera, eccetera. E queste sono tutte competenze molto importanti quando si vuole creare un lavoro completamente in computer grafica. Quindi se io voglio creare un film d'animazione, tutto ciò che abbiamo appreso nelle lezioni, nelle prime 50 lezioni è più o meno sufficiente se voglio creare un film d'animazione. Però a volte succede che il mio scopo non è creare qualcosa in Blender e basta, ma prendere qualcosa registrato con una telecamera reale e aggiungervi oggetti registrati in Blender, o magari, creati con Blender, quindi in computer grafica, o magari prendere una cosa, un'immagine, un video realizzato dal vero e togliere qualcosa, nascondere un pezzo. Quindi a volte Blender, invece di utilizzarlo per creare opere, quindi immagini o video, a volte invece di usare Blender per creare da zero immagini o video, lo utilizziamo per modificare immagini o video preesistenti, o magari per creare effetti speciali, e cose del genere. E perciò Blender si può utilizzare per fare tutto quell'insieme di cose che prendono il nome di post-produzione. E passate un paio di lezioni che ho dovuto aggiungere per fare l'aggiornamento a Blender 3.0, quindi una lezione dedicata a come aggiornare fino a Blender 3.0 e a quali sono le novità in Blender 3.0, beh, dopo aver fatto quella lezione su Blender 3.0, ci siamo lanciati nel mondo della post-produzione, nel mondo della post-produzione, che sinceramente ormai iniziamo a conoscere abbastanza bene. Abbiamo dedicato ben tre lezioni al compositing e anche ai V-Layers, su cui ci siamo soffermati nella lezione Compositing e V-Layers parte 3. In quella lezione ci siamo soffermati effettivamente su V-Layers. E poi una volta parlato del compositing, ci siamo divertiti a lanciarci in un'altra avventura relativa alla post-produzione molto importante, cioè semplicemente il V-Fits, degli effetti speciali. E perciò, proprio a partire dalla scorsa lezione, abbiamo iniziato a vedere come creare degli effetti speciali in Blender. Però avevo chiuso quella lezione dicendo una cosa. Noi, quando abbiamo visto come creare degli effetti speciali, abbiamo specificato che io devo aiutare Blender nel processo di tracking inserendo dei piccoli oggetti nella mia animazione, nella cosa che riprendono al vivo, per aumentare il contrasto. Praticamente quando io riprendo qualcosa dal vero e poi ci voglio aggiungere degli effetti speciali, posso utilizzare Blender, ma come in qualsiasi altro programma, devo prima assicurarmi che quando ho fatto quella ripresa dal vero ho inserito dei piccoli oggetti, nell'esempio della lezione scorsa delle palline di carta, che aumentassero il contrasto per facilitare il processo di tracciamento dell'immagine. Adesso, se non ci state capendo niente perché non avete visto la scorsa lezione, io sinceramente vi consiglio di andare a vedere la lezione numero 55, perché se non avete visto la lezione numero 55 può diventare abbastanza complicato seguire quella di oggi. Ammesso che voi non conosciate il VFX, se voi già conoscete il VFX nei dettagli potete seguire questa lezione anche se non avete visto la lezione 55. Ma se voi non sapete cos'è il motion tracking, cosa intendiamo bene per VFX, come utilizzare il VFX in Blender e se non sapete per esempio come, e se non sapete bene quali sono i passaggi nella giunta di effetti speciali a una clip video, beh, se non sapete tutte queste cose vi consiglio di andare prima a studiare il VFX e il motion tracking, magari vedendo la scorsa lezione di questo corso, perché quello che abbiamo detto nella scorsa lezione ci servirà. Quindi, se conoscete già il VFX, quindi se sapete cos'è il motion tracking, se sapete quali sono tutti i passaggi per creare effetti speciali utilizzando Blender e se sapete bene cosa sono i marker in Blender, beh, se sapete tutte queste cose potete seguire questa lezione. Per esempio, se avete visto la scorsa lezione di questo corso, capire questa non sarà certo un problema. Se non sapete proprio cosa significhi VFX, se non avete la più palida idea di cosa voglia dire tracking e se marker per voi è una parola mistica e sconosciuta, in quel caso vi consiglio di andare a vedere la scorsa lezione. Certo, se volete vedere questo senza andare a vedere la precedente, lo potete fare, non ve lo posso certo impedire, anzi, mi fa piacere perché le visualizzazioni male non fanno, però sinceramente, secondo me, aver visto la scorsa lezione o conoscere già l'argomento di per sé è abbastanza importante per capire questa lezione. Se non conosciute il motion tracking, vi consiglio di andare a vedere la lezione 55, perché è da lì che ripartiamo. Finalmente apriamo il nostro Blender, andiamo come al solito a schermo intero e iniziamo ad introdurre cosa faremo oggi. Intanto riapro, vi avevo detto di salvarlo perché l'avremmo utilizzato, il file che abbiamo creato nella scorsa lezione, quindi appunto questo file che praticamente è il progetto che abbiamo realizzato nella scorsa lezione. Quella che vedete in questo momento nel mio Blender è semplicemente una clip video che come vi avevo detto io ho ripreso davvero. In realtà semplicemente ho preso il mio telefono cellulare e ho, semplicemente ho preso il mio telefono cellulare, e ho ripreso questa, ho ripreso un divano muovendo la camera e poi ho utilizzato il Blender in diretta nella scorsa lezione per aggiungere degli effetti speciali. Come ho fatto, l'ho spiegato nei minimi dettagli nella scorsa lezione, passo per passo. Perciò adesso ripartiamo da dove ci siamo firmati nella scorsa lezione, quindi io, ripeto, spiegherò dando per scontato che quello che abbiamo visto nella scorsa lezione siano cose ormai assimilate. Però ricapitolando, quella che vedete in questo momento, in questa porzione di Blender, è semplicemente una clip che io ho ripreso dal vero con il mio cellulare, il mio divano ho ripreso, e poi abbiamo visto come aggiungere degli effetti speciali. In questo caso ho aggiunto una piccola astronave che sorvola il divano, e se volete vedere effettivamente qual è stato il risultato del duro lavoro che abbiamo svolto nella scorsa lezione, qui abbiamo F12, così come vedete, io ho, così potete vedere bene il rendering, come vedete io ho creato sempre in diretta nella scorsa lezione, guidandovi passo passo, questa bruttissima astronave, e l'ho creata velocemente perché, perché ovviamente una lezione non può durare 16 ore, e semplicemente, come vedete, premo F12, aspetto qualche istante, e Blender mi mostra l'immagine che ho creato, quindi come vedete c'è il mio divano, e sopra l'astronave che lo sorvola. Quindi semplicemente, questa clip che sto indicando col cuzzone del mio mouse, questa clip qui, questa clip, l'ho ripresa io con il mio cellulare, con una clip di questa dal vero, e poi, ho utilizzato Blender per creare questo modello 3D che vedete qua, il modello 3D di questa astronave, quindi questa astronave è un modello 3D che ho creato con Blender, ho utilizzato Blender per creare questo modello 3D, e poi l'ho anche utilizzato per creare l'ombra di questo modello 3D, e comunque sia creare l'effetto che avete visto. Se io adesso facessi il rendering dell'animazione completa, voi andreste a vedere semplicemente, se io adesso, voi andreste a vedere effettivamente, tutti i divano che viene inquadrato, e anche l'astronave che lo sorvola. Come potete vedere anche, in questo preview qui in alto, in questo preview poi non potete vedere l'ombra, perché quella si aggiunge col composting, tanto per intenderci, ricapitolando l'immagine del divano l'ho ripresa dal vero, e nella scorsa lezione avevo visto passo per passo come posso aggiungere questa astronave e anche la relativa ombra al mio risultato, facendo in modo che il movimento di camera che nel divano è stato ripreso da un cellulare che si muoveva, e tale movimento del cellulare che ha ripreso il mio divano è stato anche trasferito alla camera virtuale di Blender per garantire un realismo totale. Adesso, coloro che non hanno visto la scorsa lezione, poi immagino, dopo tutte le volte che ho ripetuto che consiglio di andarle a vedere, si staranno chiedendo cosa sono queste palline di carta. Coloro che non hanno visto la scorsa lezione si staranno chiedendo perché questo tiene delle palline di carta sul divano, che significato hanno, a che servono. Bene, semplicemente ve lo vado a spiegare prima di subito. Come ho già detto nella scorsa lezione, queste palline di carta sono dei marker. Quindi, come ho spiegato nella lezione 55, io, quando si vuole aggiungere un effetto speciale, in questo caso questa astronave, perché questa astronave ha un effetto speciale, non ci sta nella realtà, quando si vuole aggiungere un effetto speciale come questo a una cosa ripresa da albero, bisogna fare in modo che Blender riesca a tracciare il movimento della camera che ha ripreso il divano, in questo caso il mio cellulare, e lo trasferisca alla camera virtuale. Proprio come ho detto poco fa, il mio cellulare, mentre ripreso il divano, si muoveva, se non si fosse mosso, ci sarebbe stato un altro procedimento per raggiungere l'effetto speciale che ho sempre spiegato nella scorsa lezione, e il movimento che aveva il mio cellulare mentre io riprendevo il divano, l'ho dovuto trasferire alla camera virtuale di Blender, quindi alla camera che si trova nello spazio 3D di Blender. Quindi ho dovuto mettere Blender in condizione di riconoscere, ho dovuto mettere Blender in condizione di riconoscere qual era il movimento che faceva la camera reale, in questo caso il mio cellulare, mentre riprendeva il divano. Quindi mentre il mio cellulare riprendeva il divano, si muoveva in un certo modo, io ho dovuto mettere Blender in condizione di riconoscere come si muoveva, per poi trasferire questo movimento alla camera virtuale di Blender, quindi la camera che ho nella 3D viewport. Come ho potuto fare questo nel dettaglio? Ovviamente è sempre una cosa che abbiamo visto nella scorsa lezione e non ci interessa adesso. Quello che ci interessa è che queste palline di carta sono state indispensabili per ottenere un risultato preciso, perché senza queste palline di carta il risultato non era preciso. State tranquilli, non era preciso. Il problema è che queste palline di carta non è che ci stanno tanto bene, io vorrei un risultato dove le palline di carta, a diavolo, non ci stanno. Però non posso fare la ripresa senza palline di carta, perché se nella ripresa non ci fossero le palline di carta il risultato sarebbe impreciso. Quindi sembrerebbe che io mi debba rassegnare ad avere come risultato un'animazione dove ho un divano e sopra il divano delle palline di carta. Ma se voi prendete un film prodotto d'Hollywood e andate in una qualsiasi scena dove ci sono degli effetti speciali, e se prendete un film prodotto d'Hollywood gli effetti speciali da qualche parte ci stanno, se prendete un film prodotto d'Hollywood dove ci stanno degli effetti speciali, le palline di carta sopra la scena non ci stanno. E voi direte, certo, ma un momento, come fanno loro a fare, a raggiungere gli effetti speciali senza palline di carta? Cioè Blender, lo premetto subito, è un programma super professionale e nel fare gli effetti speciali Blender fosse il miglior programma al mondo. Quindi la risposta è la risposta a come fanno quelli di Hollywood a produrre gli effetti speciali senza mettere il cellulio palline di carta, come fanno, punto interrogativo, bene, la risposta non è hanno programmi migliori, perché per fare gli effetti speciali un programma migliore di Blender semplicemente non esiste, non esiste ancora e secondo me non esisterà per molto tempo. Perciò essenzialmente ad Hollywood non usano programmi migliori di Blender per fare gli effetti speciali, per il semplice motivo che non esistono programmi migliori di Blender per fare gli effetti speciali. Allora, come diavolo fanno ad Hollywood a produrre effetti speciali senza metterci le palline di carta? Se noi abbiamo detto che senza palline di carta il risultato è impreciso. Semplice. Le mettono, ma però le tolgono. Molto probabilmente ad Hollywood non usano palline di carta, utilizzano magari oggetti un po' più professionali, però comunque sia la maggior parte delle volte queste palline si mettono e poi le si tolgono in post-produzione. Cioè, molto spesso ad Hollywood utilizzano delle funzioni dei programmi che stanno utilizzando, nel nostro caso Blender, per eliminare queste palline di carta e ci stanno. Praticamente io posso usare Blender con delle funzionalità di ritocco avanzatissime per rendere queste palline di carta invisibili. Cioè, io posso prendere questa immagine che sta sul mio schermo editarla in modo che le palline di carta non si vedano più. E in questo modo, se tolgo le palline di carta, posso dire di avere finito il mio risultato quindi eliminare i marker. Ecco, queste palline di carta che hanno come scopo aumentare il contrasto per permettere a Blender di fare il tracciamento nel modo giusto, beh, semplicemente si chiamano marker. Quindi, da questo istante in poi, quando dico marker, mi riferisco a queste palline di carta. Cioè, dei piccoli oggetucoli inseriti nella scena ripresa dal vero per aumentare il contrasto e quindi facilitare il tracciamento o tracking in inglese che è quel processo in cui Blender rileva il movimento della camera reale, in questo caso il cellulare con cui ho ripreso il divano, per poi trasferirlo alla camera virtuale, ovvero la camera che sta nella V-Bot 3D. Se è tutto chiaro, spero che lo sia, se avete domande scrivete nei commenti, beh, se è tutto chiaro possiamo lanciarci nel rispondere a questa domanda che è molto importante e nell'argomento di questa puntata. Queste palline di carta, se esiste un modo per nasconderlo. Spoiler, esiste un modo per nasconderle. Come le nascondo? Cioè, noi abbiamo detto che se nei film di Hollywood queste palline di carta non ci stanno è semplicemente perché loro sanno come toglierle. Perciò, un modo per nascondere queste palline di carta in Blender c'è. Cioè, io le uso quando faccio le riprese ma poi in post-produzione le elimino. Come diavolo faccio? Lo vedremo, lo vedremo tra una mancetta distanti, anzi, immediatamente. Però, prima di lanciarci nell'eliminazione dei marker, marker uguale palline di carta d'ora in poi, scrivetelo proprio nel vostro dizionario personale. Bene, per capire come eliminare queste palline di carta, quindi per capire come eliminare questi marker, dobbiamo, prima di tutto, capire quali sono i dettagli del funzionamento di uno dei processi più interessanti in Blender e anche una delle funzioni più importanti che Blender abbia, cioè il masking. Però, per capire bene come funziona il masking, dobbiamo lasciare momentaneamente la scena su cui abbiamo lavorato a partire dalla scorsa lezione e lavorare un pochino su una nuova scena. Vi ricordo che per aprire un nuovo file blend basta premere il CTRL N scegliere quale interfaccia nel nostro caso va benissimo la General. Esattamente, se vi state chiedendo cosa cambia tra le varie interfacce è sempre una delle cose che abbiamo visto nel dettaglio nella scorsa lezione quindi io vi consiglio sempre di andarvela a rivedere per capire bene quello che facciamo oggi. Adesso vi prometto che lavoreremo nel composting quindi a built o use nodes Adesso cosa faremo oggi? Se c'è qualcuno di voi che utilizza Photoshop e secondo me qualcuno di voi che utilizza Photoshop c'è perché quasi tutti gli artisti di computer grafica del mondo usano Photoshop perché Photoshop è un programma molto utilizzato beh se qualcuno deve utilizzare Photoshop avrà familiarità con lo strumento Lazio Cos'è lo strumento Lazio? In Prole Povere in Photoshop c'è una funzione fatta così voi avete un'immagine come per esempio questa no? Un'immagine qualsiasi con disegnato con il rappresentante quello che volete quindi voi avete un'immagine ecco e in Photoshop c'è una funzione molto interessante che si chiama Lazio ci sono anche altre ci sono vari tipi di Lazio ma in generale in Photoshop c'è una funzione che si chiama Lazio e che funziona nel seguente modo io posso tracciare una curva al di sopra della mia immagine in questo modo quindi io posso proprio disegnare una curva sopra la mia immagine e poi quando premo invio Photoshop mi mi mantiene a seconda di quello che voglio fare o solo la parte di curva o solo la parte di immagine all'interno della curva o solo la parte di immagine che sta all'esterno della curva quindi essenzialmente io posso disegnare una curva e a seconda di quello che voglio fare o Photoshop cancella tutto quello che sta dentro la curva quindi quella parte di immagine diventa nera o Photoshop rende nera tutta la parte di immagine che sta fuori dalla curva quindi a seconda di quello che voglio fare Photoshop mi rende o nera mi rende o completamente nero ciò che sta dentro la curva o mi rende completamente nero ciò che sta fuori la curva posso fare una cosa del genere in Blender beh esattamente così no perché in Blender esiste un altro procedimento che per certi volte è anche più avanzato il masking il masking è abbastanza simile a questa cosa che fa Photoshop ma non è identico per questo prima ho detto che con Blender non potete fare esattamente questa cosa che ho detto adesso perché in Blender esiste il masking che non è proprio così è una cosa leggermente diversa ma il principio di base è lo stesso selezionare una porzione di immagine e a seconda di quello che voglio fare o mantenere solo quella porzione di immagine o cancellare o mantenere solo quello che c'è fuori quindi selezionare una porzione di una foto o di un'immagine di quello che vi pare e a seconda di quello che voglio fare o cancello tutto quello che c'è fuori o cancello tutto quello che c'è dentro se la cosa vi interessa se ho stimolato la vostra curiosità lo spero possiamo finalmente lanciarci nell'argomento della lezione di oggi tanto per cominciare dobbiamo utilizzare l'image editor quindi questa questa interfaccia di blender quindi non la newport ma l'image editor qualche lezione fa abbiamo visto che qualche lezione fa vi ho detto che l'image editor ha tre modalità la modalità view paint e mask per essere precisi ve l'ho detto nella lezione sul per essere precisi ve l'ho detto nella lezione sul texture painting allora in quella lezione vi avevo detto che le funzioni view e paint le conoscevamo la view semplicemente mi permette di selezionare la view semplicemente mi permette di selezionare un'immagine e di osservarla in blender perciò io vado a selezionare un'immagine qualsiasi premendo open vado a selezionare un'immagine posso selezionare l'immagine che voglio questa per esempio cremo open image e con view la vedo quindi l'opzione view dell'image editor è molto molto semplice io seleziono un'immagine in questo caso è solo al system punto jpeg e questa immagine mi viene mostrata quindi nella funzione view dell'image editor quindi nella funzione nella nella sezione view dell'image editor io seleziono un'immagine e la vedo basta non la posso modificare quindi serve a poco beh si a qualcosa serve però se vuole avere un'immagine visibile davanti ai miei occhi quindi magari avendocela davanti posso ragionarci su magari posso vedere in tempo reale quello che sto facendo nel caso io qui seleziono se qui seleziono il viewer node e in questo caso vedo in tempo reale quello che sto facendo ma non è di questo che voglio parlare oggi poi ho l'opzione paint di cui abbiamo già parlato nella lezione di texture painting e perciò oggi neanche lo nomino e poi abbiamo la funzione mask per scollegare un'immagine basta premere its e l'immagine non è più selezionata poi premiamo qui e posso riselezionare l'immagine dal catalogo di immagini che ho la funzione mask la sezione mask dell'image editor come funziona? semplicemente mi permette di chiare delle maschere ora se qualcuno di voi ha visto con attenzione le lezioni sul compositing sa già questa è una maschera una maschera è un discriminante che io posso inserire in blender che dice a blender cosa mi deve lasciare e cosa deve togliere praticamente una maschera sarebbe l'equivalente in blender della cuba che io tracciavo all'interno di photoshop sarebbe in parole povere una semiparole povere una una forma una forma che indica a blender cosa lasciare e cosa no e per indicare intendo dire dove è bianca la forma le parti corrispondenti dell'immagine mi le lascio dove è nera la cance di tutto ma ci arriviamo tra poco distanti a questo in particolare intanto dobbiamo capire che una maschera è ciò che mi serve per riuscire a dobbiamo capire che una maschera è ciò che mi serve per riuscire a eliminare o eliminare alcuni oggetti da un'immagine è molto simile appunto alla funzione lasso in photoshop quindi io vado a selezionare adesso l'immagine solo al system punto jpeg adesso mettiamo che io voglia eliminare che io voglia che rimanga per esempio solo il pianeta nettuno quindi io voglio trovare tutti questi pianeti ma voglio che rimanga solo il pianeta nettuno per chi di voi non è molto esperto di astronomia e il pianeta nettuno è l'ultimo cioè questo qua che sto indicando col cursore quindi in parole poveri ricapitolando la maschera è una forma che io utilizzo per dire a blender cosa nascondere e cosa mantenere e noi adesso andremo a vedere come usare le maschere per nascondere tutti i pianeti tranne nettuno quindi all'inizio devo creare una nuova maschera cliccando qui vedo l'elenco di tutte le maschere presenti in questo caso nessuna e con new creo una nuova maschera adesso scrivo il nome della maschera per esempio neptune che per chi non è molto ferato per chi non fosse molto ferato in inglese neptune è il nome di nettuno adesso io devo creare una maschera che copra il pianeta nettuno cioè praticamente io devo creare una curva che giri tutta intorno al pianeta nettuno come posso fare premendo shift a blender mi mostra un menù d'aggiunta con due soluzioni cycle o sphere lo potete vedere anche da qua nel menu add avete due opzioni l'opzione cycle e l'opzione square cycle è cerchio come vedete mi aggiunge una curva di forma circolare premendo G la posso spostare con R la posso ruotare e con S la posso scalare quindi G R ed S in questo modo ecco qua adesso avete anche notato che questa questo non è un semplice cerchio ma assomiglia molto a una curva Bessier in teoria non è una curva Bessier perché è un algoritmo a livello di programmazione leggermente diverso si chiamano curva S ed è la curva che essenzialmente si utilizza per la creazione delle maschere io posso vedete che ho queste maniglie di controllo in queste posizioni della mia curva ne posso selezionare una come questa e spostarla con G come al solito posso spostare ricordatevi che G X vuol dire spostare lungo l'asse delle X e G Y spostare lungo l'asse delle Y adesso io sposto le mie maniglie in modo che questa curva copra nel modo più accurato possibile il pianeta Nettuno Nettuno come ogni altro pianeta ha approssimativamente una sfera perciò la curva S di tipo circle è la più appropriata ricordatevi che io oltre a selezionare un'intera maniglia e a spostarla premendo G posso anche selezionare uno di questi punti di controllo e spostarlo per esempio posso premere G con selezionato solo questo punto di controllo oppure posso selezionare questo punto di controllo e muovere solo questo in parole povere ogni maniglia è formata da tre punti di controllo se clicco su quello centrale questo qui quando premo G sposto l'intera maniglia se premo su uno dei punti di controllo laterali quando premo G sposto ruoto la maniglia essenzialmente quindi ricapitolando seleziono su uno dei punti di controllo centrali e controllo l'intera maniglia oppure se seleziono su uno dei punti di controllo laterali la maniglia la ruoto e non la sposto quindi spostare i punti di controllo laterali cioè questo e questo beh questo punto di controllo e questo punto di controllo se spostate mi ruotano la curva questo invece se spostate mi trasla non la curva scusate la maniglia quindi essenzialmente se sposto questo punto di controllo la curva si ruota se sposto questo punto di controllo la curva si ruota la maniglia si ruota se sposto questo punto di controllo la maniglia si sposta Come vedete ho creato questa curva che mi ingloba il pianeta Nettuno Quindi ricordatevi che per aggiungere una nuova curva basta premere Shift A e scegliere la forma della curva Con Circle come ho già detto mi viene aggiunta una curva di forma circolare, sempre S per scalare Canc Delete per cancellare tutte le manine selezionate, quindi in questo caso il nuovo cerchio E con Shift A square aggiungo una maniglia e aggiungo scusate una curva rettangolare Come vedete questa curva non ha maniglie ma se io clicco su un punto qualsiasi il vertice più vicino si trasforma nel centro di una maniglia Quindi in questo caso per esempio questo vertice è un singolo vertice non una maniglia Ma se io clicco qui il vertice più vicino si trasforma in una maniglia e il punto su cui ho cliccato nell'estremo di quella maniglia Quindi clicco qui e il vertice più vicino si trasforma nel centro di una maniglia e il punto su cui ho cliccato nell'estremo di una maniglia Quindi per esempio clicco qui e ottengo una nuova maniglia Clicco qui e ottengo una nuova maniglia Per cancellare questo cubo mi basta selezionare tutte le maniglie che non mi interessano Sempre Shift per fare una selezione multipla Quindi seleziono tutte le maniglie che non mi interessano Premendo Shift e cliccando e premo Canch e cancello Per cancellare Canch o It's è uguale Anche questa la cancello Quindi essenzialmente per inserire una nuova curva devo premere Shift A e scegliere la forma Cerchio o quadrato Ricordatevi Square significa quadrato Circle significa cerchio Ricordatevi però che le curve in questo caso finiscono sempre dentro la stessa maschera Cioè io sto sempre lavorando sulla medesima maschera La maschera Neptuno Cioè la maschera Nettuno come vedo qui Se voglio creare una nuova maschera devo cliccare qui Adesso ho creato una nuova maschera e come vedete le maniglie della maschera Nettuno sono sparite Io vado su Neptune e rivedo le maniglie della maschera Nettuno Se invece vado nella maschera Mask non vedo più niente perché nella maschera Mask non c'è niente È vuota Magari questa la nomino in Square Seleziono un quadrato Lo sposto Lo scalo Sempre G per spostare e r per quotare Lo vuoto in questo modo e lo posiziono in un punto qualsiasi Questa adesso è diventata la maschera Square Quindi questa è la maschera Neptune Questa è la maschera Square Magari ne posso pure aggiungere un altro quadrato Qui per esempio Adesso questi due quadrati fanno parte della stessa maschera La maschera Square Che magari gli nomi in Square Cioè Quadrati Quindi la maschera Neptune è questa La maschera Squares è questa Però avete sempre notato che sono un po' limitato Nello scegliere la forma della maschera Maledizione Cioè cerchi o quadrati posso inserire e basta Certo posso editarli come abbiamo già visto Basta in un quadrato Basta che clicco in un punto qualsiasi E il vertice più vicino si trasforma nel centro di una maniglia Ma comunque sia Non posso scegliere forme complicate Oppure no Creiamo una nuova maschera Che rinomino in Non so Star Adesso se voglio creare una maschera di forma completamente regolare Mi basta tenere premuto il tasto CTRL E cliccare sui vertici della maschera Qui 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 E poi di nuovo in questo vertice qua Se cliccate dove c'è già un vertice La maschera si chiude Inoltre quando creo una maschera di forma regolare come questa Cremendo CTRL E cliccando sui vari vertici Beh Se io adesso vado a cliccare su un punto Come succedeva con la maschera di forma quadrata Se io adesso vado a cliccare su un punto Di uno dei segmenti che compongono questa maschera Qui per esempio Il vertice più vicino si trasforma automaticamente nel centro di una maniglia E il punto in cui ho cliccato si trasforma nell'estremo di questa maniglia Anche qui per esempio Se clicco qui Vedo che il vertice più vicino è diventato una maniglia In questo modo E posso modificare la maniglia in questo modo Adesso ne approfitto anche per dire che esistono tipi diversi di maniglie Infatti queste maniglie sono diverse da quelle che vedevo nella maschera circolare Perché io in questa maniglia posso prendere ogni singolo estremo della maniglia E spostarlo come voglio Avendo molta libertà di movimento Invece per esempio La maschera di forma circolare Non funziona proprio così Perché nella maschera di tipo circolare Se io clicco sull'estremo di una maniglia La maniglia si ruota Non è che l'estremo della maniglia Si trasla come dico io Se io clicco su un estremo e lo sposto L'intera maniglia si ruota Se io clicco su un estremo e lo sposto Questo estremo della maniglia Tutta la maniglia viene ruotata Ergo anche l'altro estremo si sposta E non è quello che succede qui Quello che infatti io qui per esempio Se prendo l'estremo di una maniglia E lo sposto L'altro estremo non si muove Perché non si ruota la maniglia per intero Quindi in questa maniglia Se io clicco e traslo un estremo L'altro resta dov'è Qui invece se clicco e traslo un estremo Si muove anche l'altro Questo perché ci sono diversi tipi di maniglie Per decidere che tipo di maniglia devo avere Devo cliccare sulla maniglia in questione E premere V E se premo V Vedo tutto una Se premo V Beh mi appare questo menu Dove posso decidere che tipo di maniglia inserire E' una cosa molto molto simile A come funzionavano le maniglie nelle curve Bézier Infatti le curve che intervengono nelle masche Si chiamano curve S E sono molto simili alle curve Bézier A livello di struttura Infatti queste diverse Tipologie di maniglie le trovavamo anche nelle curve Bézier Se non vi ricordate come sono le curve Bézier E come funzionano Vi abbiamo parlato in modo molto dettagliato Nella lezione numero 10 In cui ci siamo anche soffermati sui misteri Delle superfici e delle metaball Che sono magari argomenti di Blender Un po' più di nicchia rispetto alle curve Comunque sia Io clicco su una maniglia qualsiasi Questa per esempio E premo V E posso decidere che tipo di maniglia inserire Se premo Auto Blender vuota la maniglia In modo da ottenere il risultato Che secondo lui è più omogeneo E più bello da vedersi possibile In realtà le maniglie Auto Le riconoscete perché sono gialle Questa è Auto Questa è Auto Questa è Auto Perché sono gialle Quindi le maniglie di tipo Auto Le riconoscete perché sono di colore giallo Per esempio le maniglie di una curva Di tipo Cycle sono gialle E appunto sono ruotate automaticamente da Blender In modo da dare il risultato più omogeneo possibile In parole poveri Una curva è Auto Quando Blender decide come ruotarle In modo da ottenere il risultato più bello possibile Voi direte Ma quindi le maniglie della curva circolare Sono Auto Sì, ovviamente Voi direte Sì, ma c'è anche una maniglia rossa Questa qui È vero Perché, come dicevo Le curve Auto sono L'orientamento delle curve Auto Come sono ruotate È deciso da Blender In modo da ottenere il risultato più omogeneo possibile Se io ruoto Una curva Auto Semplicemente cliccando Su un estremo E spostandolo Beh, se io ruoto una curva Auto In questo modo Non è più Auto E diventa una curva di tipo Aligned Cioè appunto Una maniglia di tipo Aligned Cioè appunto una maniglia Dove Una maniglia dove Se io clicco su uno dei vertici esterni La maniglia Si ruota E anche l'altro vertice Si muove di conseguenza Quindi Ricapitoliamo un secondo Se io clicco Adesso Andiamo qui a creare Una maniglia Eccola qua Ho qui questa maniglia Se io premo Auto Blender Automaticamente Decide Lui da solo Come deve essere ruotata la maniglia Blender decide Come deve essere orientata In modo da ottenere il risultato Che secondo lui È più bello da vedere possibile Se premo Auto Se io Ruoto Una maniglia di tipo Auto Come faccio a ruotare una maniglia di tipo Auto Basta che clicco sul vertice esterno E lo sposto Beh se clicco sul vertice esterno Di una maniglia di tipo Auto E lo sposto Ottengo Una maniglia di tipo Aligned Quindi se io modifico Una maniglia di tipo Auto Se io apporto Una modifica qualsiasi Anche minima A una maniglia di tipo Auto Essa automaticamente Diventa una maniglia di tipo Aligned Qual è la caratteristica Della Aligned? Semplicemente Se io sposto Uno dei vertici esterni Come abbiamo detto prima L'intera maniglia Si ruota Ricordati che le maniglie Auto Sono gialle Le maniglie Aligned Sono rosse Infatti Originariamente Questa maniglia era gialla E se premo V Auto Torna ad essere gialla Perché torna una maniglia di tipo Auto Tuttavia Se io clicco E la modifico Si trasforma in una maniglia Aligned E quindi diventa rossa Perché le maniglie Aligned Sono rosse E le maniglie Auto Sono gialle Quindi per esempio Questa è una maniglia di tipo Auto Perciò è gialla Se io clicco su un vertice E la modifico Diventa Aligned E perciò rossa Adesso Premo A Per selezionare tutte le maniglie Premo V Auto V Auto E Blender modifica Le maniglie In modo da ottenere il risultato Che secondo lui È il più bello possibile Poi un altro tipo di maniglia Molto interessante È la maniglia irregolare Se premo V Free Se premo V Free La maniglia diventa irregolare La maniglia irregolare Si nota E si riconosce Perché è di colore grigio Qual è la sua caratteristica? Semplicemente Io posso prendere ogni vertice E tutti i vertici Si muovono indipendentemente Gli uni dagli altri Vedete Faccio così E ogni vertice Si muove In un modo completamente indipendente Da tutti gli altri Se sposto questo vertice L'altro resta dove E' proprio il tipo di maniglia Che si crea Quando vado a modificare Una Quando vado a modificare Delle maniglie Create Su una curva Creata Premendo CTRL Clic Faccio un esempio Se io premo Se io adesso Aggiungo per esempio Un quadrato E lo scalo Abbiamo detto poco fa Che se io clicco Sono un punto Qualsiasi Del perimetro Del quadrato Il vertice più vicino Si trasforma Nel centro Di una maniglia Ecco fatto Ecco Questa maniglia Che viene creata E' una maniglia Di tipo free Dove Se io sposto Uno qualsiasi Degli estremi L'altro estremo Resta lì dove Senza muoversi Questa è una maniglia Di tipo free Se invece clicco E come riconosco Che è free Beh è grigia Essendo grigia È una maniglia Di tipo free Se premo auto Diventa una maniglia Automatica Cioè gialla Se premo aligned Diventa una maniglia rossa E cioè Un altro modo Per ottenere Una maniglia rossa Cioè aligned E prendere una maniglia Di tipo auto E modificarla Come preferisco Invece con la maniglia Free Posso spostare Tutti i vertici Della maniglia In modo completamente Indipendente Senza che si influenzino Reciprocamente Quindi ricapitolando La maniglia di tipo free E' la maniglia Dove Posso spostare Tutti i vertici Senza che Lo spostamento Del vertice A Modifichi Il vertice B Cioè io posso Spostare Questo vertice Lasciando l'altro Lì dov'è Invece la maniglia Auto E' la maniglia Il cui orientamento E' deciso da blender Per Ottenere il risultato Più bello possibile E invece la maniglia Aligned Cioè quella che si ottiene Anche ruotando Una maniglia di tipo auto E' la maniglia Dove Se sposto un vertice Ruoto La maniglia in sé Altro Tipo di maniglia E' la vector Che semplicemente E' strutturata In modo da Creare linee dritte Ed è la maniglia Di default Quando io creo Una curva Premendo Control click E non aggiungo Delle maniglie Ecco qua Sono tornato A questa situazione Di partenza E la curva Che vedete In questo momento E' stata creata Premendo Control click Cioè ho selezionato Ho selezionato Un certo Numero Di Punti E tra questi punti E' stata creata Una curva Che li unisse Ecco Quando utilizzo Questo metodo Per gestire Una curva Tutti Tutti questi vertici Quindi Questo 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 Tutti questi vertici Sono in realtà Maniglie Di tipo vector Posso trasformare In maniglie Di tipo auto Premendo V Auto O in maniglie Di tipo Aligned Premendo V Aligned Oppure Modificando La maniglia Di tipo auto Se io Clicco Su due punti Del perimetro In questo modo Le maniglie Di tipo vector Che sarebbero Tutti questi vertici Si trasformano In maniglie Di tipo free Per esempio Questo vertice In realtà E' una maniglia Di tipo vector Un vertice E' una maniglia Di tipo vector Se io clicco Qui E qui Tale vertice Si trasforma In una maniglia Di tipo free Che può Su cui posso cliccare E trasformarla In una maniglia Di tipo auto O una maniglia Di tipo Aligned Che Una maniglia Di tipo aligned Che posso creare Anche modificando Una maniglia Di tipo auto Ricordatevi che Le maniglie Di tipo vector Le riconosco Perché Sono rappresentate Da singoli punti E non da segmenti Io qui Non vedo Un segmento Ma un singolo punto In questo punto Qui Vedo un singolo punto Perciò non è una maniglia Di tipo aligned Auto No E' una maniglia vector Perché le maniglie Che vedo come un singolo punto In realtà sono maniglie Di tipo vector Ricordatevi che Se voi premete Control click Il punto che inserite È collegato Al vertice Selezionato Perciò In questo caso Ho selezionato Questo vertice Se premo Control click Il nuovo vertice Che vado a creare Si collega A quello selezionato Se io seleziono Questo vertice Che in realtà Il vertice È una maniglia Di tipo vector E premo Control click In questo punto Il nuovo punto Che vado a creare In realtà Si collega Al vertice selezionato Quindi se premo Control click Il nuovo punto creato Si collega Al vertice Che era selezionato Faccio un altro esempio Seleziono Questo vertice E se premo Control click Il nuovo vertice Si collega A quello che avevo selezionato Seleziono questo E il nuovo vertice Si collegherà adesso Ricordatevi che Se io voglio creare Una nuova curva Da zero Premendo control click Sembra che non ci riesca Perché se premo Control click Qui, qui e qui Non creo una nuova curva Ma modifico Ma modifico Una curva preesistente Se voglio creare Una nuova curva S O premo Shift A E seleziono O circle O square Oppure premo Alt A Per deselezionare tutto E adesso posso Cliccare tranquillamente In questi punti E creare una nuova curva Se adesso premo Control click Il nuovo vertice Che vado a creare Si collega A quello che era selezionato Allora Devo premere Alt A Per deselezionare tutto E adesso Premendo qui Voglio creare Una nuova curva Indipendente Se non premete Alt A Quando create Nuovi vertici Essi si collegheranno A quelli preesistenti In questo modo Ho creato una maschera Di forma irregolare Se voglio spostare Un vertice Basta premere G Lo seleziono E premo G In questo modo Il punto centrale Al centro della maschera È quello Su cui devo cliccare Questo punto centrale Al centro della maschera È quello su cui devo cliccare Se voglio spostare La maschera per intero La posiziono Dove preferisco Posso sempre prendere Le punte della stella E modificarle Come preferisco Quindi per esempio Creiamo una maschera Per Saturno Per Saturno È difficile Creare una maschera Utilizzando Le forme predefinite Dal cerchio e del quadrato Perché Saturno Devo rendere La forma degli anelli E perciò Come posso lavorare Semplicemente Tenendo premuto Il tasto Control E aggiungendo Piano piano Tanti vertici Alla mia maschera Fino a coprire Fino a coprire Tutto il perimetro Del pianeta In questo modo Piano piano Vertice dopo vertice Finisco per coprire Tutto il perimetro Del pianeta Mi rendo conto Che può essere Giusto giusto Un po' Noioso Però Ovviamente È un passaggio Indispensabile Nella creazione Delle maschere Quindi piano piano Clicco Sempre tenendo premuto Il tasto Control Se non tengo premuto Il tasto Control Non mi si crea La maschera Quindi Tengo premuto Control E copro Tutto il perimetro Della maschera Tutto il perimetro Di Saturno Ecco qua Piano piano Devo coprire Tutto quanto Forse dovrei Accelerare Leggermente Il video Per evitare Di costringervi A sorbirvi L'attesa Che io finisca Questo processo Ma Lo faccio anche Perché Comunque sia Ogni video Deve essere una guida Passo passo A come svolgere Il lavoro E perciò Dato che è la prima volta Che si crea Una maschera In questo corso Ho ritenuto meglio Non accelerare Il video E mantenere Il processo Di creazione Della maschera A velocità Normale Anche perché Non è che sia Un'attesa Biblica Ecco qua Poi ovviamente Potete fare Potete eseguire Questo processo Su qualsiasi Tipo di Oggetto Complesso Quanto volete Certo Più l'oggetto Sarà complesso Più l'oggetto Sarà complesso Più Vertici Dovrete aggiungere Quindi più tempo Impiegherete Ma questo è normale Quindi adesso Adesso Aggiungo Aggiungo questi vertici Per coprire La parte interna Di Saturno Ecco qua Ecco qua Come vedete La maschera Tende sempre Ad assumere Una forma Chiusa Poi Dove ci sono Porzioni Dove i confini Nell'oggetto Sono dritti Potete anche Inserire pochi vertici Solo quelli Necessari Invece dove ci sono Porzioni più curve Sarebbero più vertici Poi ricordatevi Che se voi cliccate Tra un vertice E l'altro Blender vi suddivide La linea Che li congiunge In due Quindi se io clicco Per esempio Su questa linea E se viene suddivisa In due parti E di solito Ricordatevi che Blender collega Il vertice Che andate a creare Con quello selezionato Se io seleziono Questo vertice Premo CTRL Ed è quel vertice Ad essere collegato A quello che ho creato Cioè io per esempio Seleziono questo vertice E ne creo uno nuovo Qui E come vedete La maschera Assuma una forma strana Io devo sempre assicurarmi Che il vertice Che voglio collegare A quello che sto creando Sia selezionato Spesso cliccare In mezzo alle linee Per rendere Più Smussata La maschera È un buon metodo Per aumentare La qualità Ecco qua E adesso Continuo Sul Perimetro Del pianeta Vede proprio Così Così Poi ovviamente Lo potete fare Sull'oggetto Che volete E Sulla porzione Di immagini Che volete Io ho deciso Di farlo Su Saturno Per il semplice motivo Che Avendo gli anelli Siamo costretti A Utilizzare Questo processo Di masking Quindi creare Piano piano Un vertice Alla volta Ecco qua Ci siamo quasi Adesso Clicco di nuovo Su Questo vertice Sempre Premendo Il tasto Control E chiudo L'immagine Ricordatevi che Per selezionare Un vertice Non serve Tener E come vedete Ho creato Questa Maschera Che posso Prendere E spostare Dove preferisco In più Anche questa maschera Posso gestire Come una curva Infatti anche qua Se clicco Su un punto Qualsiasi Il vertice Più vicino Diventa Il centro Di una maniglia E il punto Su cui ho cliccato L'estremo Di quella maniglia Come succedeva Con il cubo E con La maschera A forma di quadrato Voi mi direte Ok Interessante Ma una volta Che ho creato Tutte queste maschere Diverse Quindi quella Per saturno I quadrati Nettuno E quella La forma di stella Io poi Che ci faccio Mi spiego Un pochino meglio Io una volta Che ho fatto Tutto questo Ho creato Appunto Queste Maschere Ma poi Io devo Dire a blender Che tutto Quello che ci deve Essere Dentro questa maschera Deve sparire O viceversa Che tutto Quello che c'è Fuori Da quella maschera Deve sparire Gli devo dire Una di queste due cose Come faccio Devo utilizzare Il compositing Allora Questo è il mio compositing Sono andato in modalità Schermo intero Cancello Il render layer Vado in input Image E qui seleziono L'immagine da modificare Solo al system Punto jpeg E la collego Al composite Adesso per vedere In tempo reale Quello che sto facendo Vado in layout Retrute E lo collego Al viewer Commando shift Control Magari Aprite il pannello Laterale E regolate Lo zoom Del backdrop In modo da avere L'immagine Facilmente visibile Dal In modo da Poter vedere L'immagine per intero Adesso Io devo andare A richiamare In qualche modo I dati della maschera Però Prima di fare questo Devo assicurarmi Di fare un passaggio Abbastanza importante Devo settare Le dimensioni Del mio rendering In modo che coincidiano Con le dimensioni Di questa immagine Questa immagine È di 4500 pixel Per 5600 pixel Quindi è importante Inserire Anche le dimensioni Del rendering A questi valori Una volta che ho fatto Questo posso andare A ripescare La mia maschera Come faccio A ripescare I dati della mia maschera Nel compositor Premo shift A Input E seleziono La mia maschera Mask E adesso qui Vado a scegliere La maschera Qui Da questo pannello Vado a scegliere La maschera Da utilizzare Per esempio La maschera Saturn Shift control click Per collegarla Al viewer E vedo la maschera Che vuol dire Vedo la maschera Vuol dire Che quello che c'è Dentro la maschera Lo vedo Bianco Quello che c'è Fuori Dalla maschera Lo vedo Nero Posso anche scegliere Un'altra maschera Per esempio La maschera Neptune Aspettiamo qualche istante Che Blender Si accorre Che ho cambiato maschera Ecco qua E vedo Bianco Quello che c'è Dentro la maschera Neptune E nero Quello che c'è fuori Oppure Posso scegliere La maschera Squares Anche qua Ci vuole sempre Qualche istante Perché si rende conto Che ho cambiato maschera Ecco qua Come vedete Vedo la maschera Squares I quadrati Oppure Posso anche scegliere La maschera Star Come vedete Questa Buonattissima maschera Che abbiamo fatto prima Tanto per capire La logica Della creazione Di maschera Di forma personalizzata Comunque Se ovviamente Potete creare Maschere Della complessità Che volete Comunque Era tanto per Grandere l'idea Qui posso selezionare La maschera Da utilizzare Una volta che l'ho selezionata Che faccio Bene Semplicemente Devo Posso utilizzare Questo insieme di dati Per modificare Questa immagine qui Facciamo un esempio Magari posso andare In un mix Scusate Al factor Adesso Adesso Dove la maschera È bianca Vedo il colore Che scelgo qua Dove è nera Vedo l'immagine originaria Quindi se qua Quindi se in image Seleziono il nero Dove c'è la maschera Vedo nero Essenzialmente Quindi semplicemente Adesso Dove Quindi adesso Quindi adesso In modo molto elementare Dove la maschera Al di fuori della maschera Vedo questa immagine E all'interno della maschera Vedo il colore Che seleziono qui Che ne so Un bel rosso per esempio Ma posso ovviamente Comportare Ma posso anche fare cose Leggermente più avanzate Come per esempio Collegare Come per esempio Invertire I colori della maschera Premendo invert Utilizzando un bel nome Di tipo invert Quindi invert la maschera E in questo caso Capovolgo il risultato Dove Al di fuori Della maschera Vedo questo colore qua E all'interno L'immagine originaria Quindi per esempio Se seleziono Il colore nero Vedo Solo Saturno E posso sempre Cambiare maschera In tempo reale Per esempio Selezionando Nettuno Oppure la maschera Squares Come vedete I risultati sono molto diversi O magari addirittura Anche la bruttissima Maschera Star Ottenendo tutti questi risultati Se elimino L'invert Collego di nuovo La maschera Al factor Senza l'invert Dentro la maschera Vedo l'immagine originaria E al di fuori Della maschera Vedo il colore Che inserisco qua Quindi Ricapitolando Un'ultimissima volta Come funziona Di solito Il modo in cui mi comporto io È il seguente Collego Di solito Il modo in cui mi comporto io È il seguente Se io collego La maschera Direttamente al factor Quindi se collego la maschera Direttamente al factor Al di fuori Della maschera Vedo l'immagine originaria E all'interno della maschera Vedo il colore Che inserisco qua Per esempio un nero Oppure un verde Quello che voglio Quindi Al di fuori della maschera Vedo l'immagine originaria E all'interno Vedo il colore Che inserisco qua Questo Se e solo se Questo se e solo se La maschera si collega Direttamente al factor E se alla prima entrata Del mix Collego l'immagine E alla seconda entrata Del mix Non collego nulla Quindi se alla prima Quindi Questo è vero Solo se La maschera è collegata Direttamente al factor E l'immagine è collegata Alla prima entrata Del mix Invece Se io Alla maschera Se io alla maschera Applico Un bel invert Se la maschera Applico un bel invert Capovolgo la situazione Inverto la situazione Non è più vero Che al di fuori Della maschera Vedo l'immagine originaria E all'interno Vedo Il colore Che inserisco Qui Ma è il contrario Al di fuori Vedo il colore Che inserisco qui Per esempio Un bel verde Un bel verde Per esempio Al di fuori Vedo il colore Che inserisco qua E all'interno Un'immagine originaria Se qui inserisco un invert Se muto l'invert Prima in 2M E torno alla situazione Di prima Quindi Senza invert Dentro la maschera Vedo il colore Che inserisco qua E fuori dalla maschera Vedo L'immagine originaria E con l'invert E' il contrario Ricordatevi che Perché questo sia vero L'immagine Solo al system Punto jpeg Deve essere collegata Alla prima Entrata del mix Se la collego Alla seconda Entrata del mix La situazione Si inverte di nuovo La situazione Si inverte di nuovo Vedo Quello che prima Stava dentro la maschera Lo vedo fuori E quello che prima Stava fuori Lo vedo dentro Quindi se io Solo al system Punto jpeg Cambio Cambio A quale entrata Del mix Lo collego Quindi Dalla prima Alla seconda O dalla seconda Alla prima Beh Se io Sposto Il solo al system Punto jpeg Da qui A qui O da qui O da qui A qui Quindi se lo muovo In questo modo Se io sposto Il solo al system Punto jpeg Da qui O da qui A qui Quello che prima Stava dentro la maschera Va fuori Quello che prima Stava fuori Va dentro E un altro modo Per portare Quello che stava dentro Fuori O quello che stava fuori Dentro Un altro modo Per fare ciò E inserire Un invert E applicarlo qui Spero di essere stato chiaro Ovviamente qua Io posso anche collegare Un'altra immagine Quindi io posso Anche andare in image Posso anche inserire Un altro modo image Selezionare Un'altra immagine Qualsiasi Come per esempio Non saprei Questa E No Magari questa immagine Non è molto adatta Perché è molto piccola A livello di larghezza C'è una immagine Qualsiasi Questa per esempio E Se collego Quest'immagine All'altra Intrata Del mix Vedo il contenuto Di questa immagine All'interno O al di fuori Della maschera Per esempio Se faccio così Vedo il contenuto Dell'altra immagine Al di fuori Della maschera Se faccio così Lo vedo all'interno Della maschera Adesso Usa un translate Per spostare Il contenuto Della seconda immagine In modo che Coincida Con La porzione Di Immagine In cui Lo pongo Meno 600 Pizzini Bene 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 Quindi per esempio Se io Nell'altra Entrata Del mix Collego Un'altra immagine All'interno Al di fuori Della maschera Vedo Quest'altra immagine Come faccio A spostare Quello che sta Fuori Della maschera All'interno Della maschera E quello che sta All'interno Della maschera Al di fuori Della maschera Ci sono due modi O Collego Solo al system In punto jpeg All'altra Entrata Del mix Oppure applico Un nodo Invert Alla maschera Spero che sia tutto Chiaro Se avete domande Scrivete nei commenti Comunque sia Questa era per spiegare Come funzionano Le maschere All'interno Di blender E adesso Voi mi direte Ok Aspettate che salvo Questo file Voi adesso mi direte Ok Tutte cose Molto interessanti E a questo Che diavolo C'entra Con la rimozione Di marker Dai file A cui aggiungiamo Il vfits Bene La cosa importante È che Magari Questo metodo Che vi ho appena spiegato Questo metodo Di creazione Delle maschere Che si tutta Il composting E il Limit Editore In modalità mask Funziona Per lo più Per le immagini Cioè Se io voglio Creare le maschere Per un video Utilizzeremo il metodo Che vediamo adesso Però Vole comunque Descriverlo Semplicemente Perché Prima o poi Ne dovevo parlare Di questo metodo E anche perché Serve a introdurre Molto Anche perché Ho voluto parlare Di questo metodo Di creazione Delle maschere Che non si applica Alla rimozione Dei marker Perché Se noi vogliamo Utilizzare le maschere Per eliminare i marker Dobbiamo fare in un altro modo Come Lo vediamo adesso Ma Il metodo Che vi ho appena spiegato Serve quando voglio Rimuovere un oggetto Da un'immagine Io lo trovo molto utile E sinceramente Quando si tratta di rimuovere Un oggetto Da un'immagine È così che io faccio Di solito Anzi È così che si deve fare Invece per rimuovere i marker Bisogna fare in un altro modo Che vi spero adesso Comunque sia Questo metodo Conoscere bene È molto utile Anche perché Aiuta A Capire bene Il funzionamento Delle maschere Io adesso Ho creato un nuovo file blender Ma non serviva Perché devo riaprire Il file che abbiamo creato Nella lezione precedente Lezione 55 Parte 2 Ecco qua Il file che abbiamo creato Nella scorsa lezione Bella e pronto Come l'abbiamo lasciato Qualche minuto fa Non so se Qualche Vabbè Come l'abbiamo lasciato Alcuni minuti fa Adesso Andiamo finalmente A lanciarci In questa nuova sfida Eliminare Le palline di carne Allora Per farlo Ora Light e shading Sono due preset Che abbiamo aggiunto Noi nella scorsa lezione Però Noi diciamo Che i preset Che di default Già riuscite a trovare All'interno Del Dell'interfaccia WebEats Sono i preset Motion tracking Masking Composting E rendering I preset Composting Rendering Li conosciamo I rendering Il preset Rendering Già l'abbiamo visto Nella lezione 40 Quindi i preset Composting E rendering Li conosciamo Invece Il preset Motion tracking L'abbiamo visto Nella scorsa lezione Cioè Nella scorsa lezione Per Una buona parte Della lezione Abbiamo lavorato Con questa interfaccia L'interfaccia Di motion tracking Tuttavia C'è un preset Che non abbiamo Mai approfondito E che guarda E che guarda caso E che guarda caso E che guarda caso E proprio l'argomento Di quello che resta Di questa lezione Ovvero Il preset masking Apriamo Il preset masking E mi trovo davanti A un'interfaccia Che a una promocchiata Mi può sembrare ostica Ma se la guardo bene Non è poi così misteriosa Troviamo qui in alto L'outliner Che lo conosciamo Come le nostre tasche Già l'abbiamo parlato Nel dettaglio Nella lezione numero 6 Di questo corso Quindi Nella pre-storia Ormai è il nostro amico Ormai amico Di vecchia data E qui vediamo Anche il pannello properties Pannello properties Che essenzialmente Ci serve per i settaggi Della scena E ormai lo conosciamo benissimo È una cozzaglia Di vari parametri Numerici e regolabili Poi qui in basso Troviamo La nostra caravetta Timeline Qui in basso Troviamo la timeline Classica Quella che abbiamo Già iniziato a sperimentare Dalla lezione 22 Cioè semplicemente La solita timeline Dove c'è questo pulsante Per andare avanti E riproduce l'animazione Questo per andare indietro Questo e questo Per saltare da un keyframe All'altro E questo per andare Alla fine dell'animazione E questo per andare All'inizio dell'animazione In più Adesso andiamo a vedere Che qui in alto Trovo anche un'interfaccia Di composting Quindi già questo Ci può far ben pensare Che parleremo Anche Che ci entrerà In qualche modo Il composting Perché qui in alto Trovo il compositing In più Qui Ho La dop sheet Quindi non è Una cosa strana Trovo proprio La dop sheet La nostra cara Classica Dop sheet E già nelle lezioni precedenti Abbiamo visto che La dop sheet Ha varie modalità La modalità di default La modalità dop sheet Ma esiste per esempio Anche la modalità Action editor Di cui ne abbiamo parlato Quando ci siamo Fondati nell'NLA Quando si fa NLA Ne abbiamo parlato In una lezione NLA Funzioni di animazione avanzate Forse la lezione 23 L'action editor Lo conosciamo già molto bene Adesso andiamo a parlare Del mask Che è un'altra Funzione della dop sheet Quindi la dop sheet È La dop sheet Essenzialmente Tra le varie modalità Che ha Anche la modalità mask Poi Qua abbiamo Sempre il movie clip editor Che è Un editor Che abbiamo già iniziato A vedere Della scorsa lezione Come vediamo Ha varie modalità Questo per esempio Un movie clip editor Anche questo E anche questo E come vediamo Il movie clip editor Ha due modalità Il tracking E il mask Nella scorsa lezione Noi abbiamo visto La modalità tracking Che si divide in altre Tre sottomodalità La modalità clip Graph E dop sheet Quindi Questa È la modalità dop sheet Questa È la modalità clip E questa è la modalità graph Quindi Quando abbiamo Un movie clip editor In modalità tracking Beh la modalità tracking Del movie clip editor Si divide in Si divide in tre sottomodalità La modalità dop sheet Che è questa modalità qui Questa È la modalità dop sheet La modalità La modalità clip Che è questa qui Che sto indicando Col mio mouse Quindi la modalità Dove aggiungiamo i trigger E poi anche questa È anche la modalità Del grafico Anche la modalità graph Dove c'è il grafico Dei movimenti dei trigger Invece C'è anche un'altra Modalità Del movie clip editor Che non ha sottomodalità La modalità mask Quindi adesso Che abbiamo finalmente capito Come è strutturata Questa interfaccia Abbiamo capito Come chiamare I vari editor Possiamo iniziare a capire Come utilizzarla La prima cosa importante Da fare È Cliccare qui E selezionare La nostra clip La clip test 55.mp4 La clip video Su cui stiamo lavorando Da un paio di lezioni Ormai E adesso Andiamo a vedere Essenzialmente Come rimuovere Questi maledettissimi trigger Ricordatevi Questo è un po' Il furco Della lezione di oggi Questo è il furco Della lezione di oggi A me A me I criteri Scusatemi I marker Non so perché I automatici Ora andiamo a vedere Come rimuovere I marker Come posso rimuovere I marker Allora Il furco Della lezione di oggi È il seguente I marker Io le posso togliere Semplicemente Modificando Quest'immagine Perché Quindi Semplicemente Nel compositing Perché Una volta che I marker Sono utilizzati Dai trigger Per Settare Il movimento Della camera virtuale Non mi servono per niente Perciò posso Modificare Quest'immagine Utilizzando Masking E composting Combinati In modo da Riuscire finalmente In modo da riuscire finalmente A Beh Togliere Queste maledettissime Palline di carta La prima cosa Che molti di voi Avranno usato È che qui in alto C'è l'icona Delle maschere Quindi vedo Quest'icona qui Che è la stessa Icona Che negli image editor Mi apriva L'elenco Delle maschere Infatti se clicco qui Vedo l'elenco Di tutte le maschere Che ho in questo momento C'è nessuna Con new Apro Una nuova maschera Che per esempio Creo una nuova maschera Che per esempio Rinomino Anzi Lo lascerò Così come Mask Adesso Andremo Vediamo come togliere Le palline di carta Magari adesso Vediamo come togliere Una pallina di carta Poi le altre Si tolgono in modo analogo Quindi per esempio Proviamo a togliere Questa pallina di carta Come faccio? Allora Prima di togliere Effettivamente Devo creare una maschera Come faccio A creare una maschera? Esattamente Come la creavamo Nella Scolta lezione Scusate Esattamente come la creavamo Nella precedente parte Di questa lezione Premendo Shift A E scegli S'inserire di forma Circolare o quadrata Ovviamente Adesso lo scopo È rimuovere i marker Perciò non mi servono più Maschere di forma complessa Mi basta anche Una maschera circolare E una maschera quadrata Perché la maschera Che vado ad aggiungere Non deve avere Perfettamente La forma del marker Deve essere solo Una maschera Che sta attorno Al marker Ma non deve avere Esattamente La stessa forma Del marker Anzi Deve essere un pochino Più grande Perciò Una maschera circolare Quadrata Va benissimo Non deve essere La stessa forma Del marker Basta che Ha una forma Quindi inseriamo Per esempio Una maschera circolare Per esempio Adesso la spostiamo In modo da sovrapporla Al marker Che vogliamo eliminare In questo modo La scala un pochino E la posiziono qua Come vedete Io adesso cosa ho fatto Ho semplicemente Creato Una maschera Ho creato Una maschera Che si trova Sopra Un marker E questo è quello Che volevo fare Però c'è un piccolo problema Se io mi sposto Lungo l'animazione Il marker Si sposta Perciò se mi sposto Lungo l'animazione Poi il Marker Non sta più Sotto La mia maschera Quindi Ricapitolando Io ho una maschera Che si trova Sopra il marker E il marker Si muove Quindi la pallina di carta La pallina di carta Si sposta Nel fotogramma 30 La pallina di carta Si trova in una posizione Diversa Rispetto a quella In cui è nel fotogramma 40 Nel fotogramma 20 La pallina di carta Sta in tutta La posizione Rispetto a quella In cui sta Al fotogramma 40 Quindi In parole povere Al fotogramma 40 La pallina di carta Si trova Dentro la maschera Ma negli altri fotogrammi La pallina di carta Si trova Da tutta Altra parte E questo Effettivamente è un problema Perché io voglio Che la pallina di carta Stia sempre All'interno della maschera Quindi Io devo fare in modo Che la maschera Si sposti Per seguire I movimenti Della pallina di carta Vi ricorda qualcosa? E' quello che fanno Anche i trigger E perciò Io devo fare in modo Che la maschera Si muova Seguando la pallina di carta Quindi voglio Che la maschera Si muovi Come un trigger E magari Vi ricordate Una funzione di blender Che permette di fare In modo che un oggetto Si muove Come un altro Si Il legame di parentela Di cui abbiamo parlato Nella lezione 12 o 13 Adesso non ricordo chiaramente Però Essenzialmente E' questo Quello che ci interessa Far muovere La maschera In modo Da seguire il marker Quindi Abbiamo creato Quindi dobbiamo creare Un legame di parentela Tra la maschera E il trigger Associato al marker Come si fa a farlo? E' molto 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 semplice Basta Selezionare Il trigger in questione Quindi Alt A Per selezionare tutto E seleziono Il trigger in questione Adesso ho selezionato Il trigger in questione E una volta che ho selezionato Il trigger in questione Premo A Per selezionare tutte le maniglie E perciò Ho selezionato Il trigger in questione Cioè Questo trigger qua Come si fa? Quindi Alt A Per selezionare tutto Seleziono Il trigger in questione Premo A Per selezionare Le maniglie della maschera Il trigger in questione È il trigger Che segue il marker Che voglio togliere E poi In parenting Premo l'opzione Parent E adesso Ho imparentato la maschera Con il trigger Sembra che non sia successo niente Ma l'ho fatto Se premo Clear Annulo quest'operazione Ma non c'è motivo Per quello che voglio fare Quindi premo Parent Adesso Se io mi sposto Lungo la timeline Con un buon grado Di precisione La Con un buon grado Di precisione La Ma La maschera Segue Il mio trigger Adesso vediamo che a un certo punto Non lo fa più E tra poco parliamo del perché E come risolvere Però Per una buona parte dell'animazione La maschera Segue Il mio marker E di conseguenza Anche il mio trigger Altre opzioni che ho Semplicemente Io Se vuoi Modificare La mia maschera Mi basta premere G Cliccando su una maniglia Ecco In realtà Questa maschera Si edita Come si editavano le maschere Nell'image editor È sempre una curva S La curva S È la curva delle maschere Se io clicco sul punto centrale Di una maniglia E trascino Sposto la maniglia Se clicco sul punto centrale Di una maniglia E trascino Sposto la maniglia Se invece trascino Cliccando sul punto laterale Di una maniglia La ruota Più in generale Considerato una maschera Qui ho il comando Move Per muoverla Ctrl Z Per annullare Rotate Per ruotarla Ctrl Z Per annullare Scale Per scalarla Ctrl Z Per annullare Delete Per cancellare Quello che ho selezionato Delete E Ctrl Z Per annullare E queste sono le opzioni più importanti Poi quelle Insert Key E Clear Key Le vediamo tra pochi istanti Anzi le vediamo Quasi immediatamente Quindi Ricapitolando Come vedete La Come vedete La maschera Segue il mio marker E questo è quello che volevo È quello che volevo La maschera Sta seguendo Il mio marker Il problema È che Non lo fa Per sempre A un certo punto Non lo segue più Perché Semplicemente perché La maschera Si Segue il mio marker Ma per essere più precisi La maschera Segue il trigger Che segue il marker E il problema È che il trigger Non funziona sempre Nella scorsa lezione Abbiamo visto che Nella maggior parte dei casi I trigger Non ce la fanno Iniziare a lavorare All'inizio dell'animazione E finire alla fine Dell'animazione I trigger Iniziano a lavorare In un determinato punto Dell'animazione E finiscono di lavorare In un altro punto Dell'animazione Non lavorano per tutta L'animazione Lavorano solo In una porzione Di animazione I trigger Questa maschera È collegata a un trigger E perciò Quando il trigger È attivo La maschera si muove Ma quando il trigger È disattivo La maschera è immobile Se io Vado al ventesimo Fotogra Il trigger Si disattiva E perciò La maschera diventa immobile Questo è un problema Nello stesso modo Se faccio passare Un po' di tempo Al cinquantesimo Se faccio passare Un po' di tempo Al sessantacinquesimo frame Il trigger Si disattiva di nuovo E la maschera Torna di nuovo immobile Adesso Vediamo che Il modo più semplice Per rimediare È imparentare la maschera Anche con altri Trigger Quindi per esempio Nel Quindi per esempio Non serve perché Il maschera È sempre al centro Della maschera Al sessantatrisimo frame La maschera È immobile Però c'è un nuovo trigger Che segue Il mio marker Quindi adesso C'è un trigger Che prima Che ha disattivato Ma adesso si attiva Perciò Adesso posso imparentare La maschera A questo nuovo trigger Cioè Questo qui Ah Per selezionare tutto E premo parent Vedo che La doppia parentela Ha spostato La mia maschera Ma La rinsirisco Subito In posizione E come vedete Adesso la maschera Segue Questo mio nuovo Trigger Ma anche questo nuovo trigger A un certo punto Si disattiva Perciò Di nuovo Io premo Anche questo nuovo trigger A un certo punto Si disattiva Ma ce n'è di nuovo Un terzo Che segue Il mio marker Perciò Adesso Seleziono Questo terzo trigger A per selezionare A per selezionare A per selezionare tutte le maniglie Di nuovo parent La maschera si sposta di nuovo Ma premo G Per rimediare Quindi Ricapitolando Un secondo Adesso la maschera Sta seguendo Un trigger Quando questo trigger Si disattiva La maschera Inizia a seguire Un altro E quando anche Quest'altro Si disattiva La maschera Ne segue Un altro Ancora Il problema È che non funziona All'infinito A un certo punto Di trigger Non ce ne stanno più Il marker Non è più tracciato I pro le povere Adesso La rim parenti Di nuovo Con questo trigger Parent Quindi Intanto Finché Ho dei trigger Cerco di Sfruttarli Poi adesso Andiamo a vedere Cosa succede Quando Non ci sono Trigger Che seguono Questo marker L'importante È che la maschera Si trovi sempre In corrispondenza Del marker Quindi Andiamo Avanti Vediamo che Intorno al ventesimo Frame Il trigger Si disattiva Quindi Ricapitolando Dal frame 1 al 20 La maschera Non funziona Poi Inizia a seguire Questo trigger Questo trigger Dopo un pochino Si disattiva E la maschera Inizia a seguirne Un secondo Ecco qua Ma poi Anche questo secondo È destinato A disattivarsi E perciò La maschera Alla fine È immobile Perciò Dal frame 20 Al frame 60 La maschera Riesce a seguire Il mio marker Ma in tutta la parte L'animazione successiva Non lo fa Per il semplice motivo Che nella parte L'animazione successiva I marker Che la mia camera Stava seguendo I tracker Che la mia camera Stava seguendo Sono disattivati Quindi Ricapitoliamo Velocemente Dal frame 20 Al 70 I tracker Che la mia maschera Segue Funzionano Ma Dal frame 0 Al frame 20 E dal frame 70 Al frame 100 Questi tracker Sono disattivati E perciò La maschera Immobile Praticamente Per fare in modo Che la mia maschera Segui il marker Faccio Costringo la maschera A seguire Dei tracker Ma i tracker Funzionano solo Per una porzione Di animazione Quindi nella porzione Di animazione Al di fuori Di questo periodo La maschera Non si muove E come faccio a rimediare Utilizzando i keyframe Perché posso aggiungere Dei keyframe Alla mia maschera Quindi io al frame 1 Sposto la maschera In modo che coincida Con il marker E aggiungo un keyframe Premendo Insert key Adesso Faccio passare Un po' di Fotogrammi E quando il marker Si trova al di fuori Sposto di nuovo La mia camera In modo che corrisponda Di nuovo Il mio Marker E aggiungo Un altro keyframe Adesso andiamo Un altro po' avanti E di nuovo Sposto la mia Maschera E ripremo Insert key Adesso Sposto di nuovo La mia Maschera E premo Un'altra volta Insert key Adesso è arrivato Frame 21 Quindi la maschera Inizia a seguire Il trigger E possiamo andare Un po' avanti Quindi la maschera Segue il trigger Fino Al frame 61 E adesso Ricomincio a lavorare Con i keyframe Quindi di nuovo Sposto La maschera E premo Insert key E poi qui Nella top sheet Vedo Tutti i miei Keyframe Quindi la top sheet Vedo i keyframe Ed è questo che sarebbe Questa top sheet Adesso vado un po' avanti Sposto di nuovo La maschera Adesso la scalo Anche un po' E premo di nuovo Insert key Poi Aspettiamo un altro po' Premo di nuovo Insert key Adesso Di nuovo La scalo Insert key Per scalare Ed è Se ve lo ricordo Adesso Andiamo un po' avanti Insert key Di nuovo Qualche frame Avanti Insert key Bisogna proprio Andare Vedere tutti i fotogrammi Di nuovo Qualche frame Avanti Sposto Di nuovo La maschera Apriamo Insert key Vado Ancora Qualche frame Avanti Sposto Di nuovo La maschera E inserisco L'ennesimo Fotogramma E ho finito L'animazione Adesso Rivediamo L'animazione Dall'inizio E controlliamo Che la maschera Si trovi sempre Allineata Quindi Come vedete La maschera Non si trova sempre Proprio in corrispondenza Del centro Del mio Scusate 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 Ecco Ecco qua Dal ventesimo frame La maschera Inizia a seguire Un tracker Dal ventesimo frame Dal ventesimo frame La maschera inizia a seguire Un trigger Però A un certo punto Come vediamo Si Si Discosta Momentaneamente Dal mio marker Perciò Posso Aggiungere Un keyframe Quindi Sposto La mia maschera In modo da Riallinearla E premo Insert key Di nuovo E si discosta Di nuovo Un altro po' Dal mio marker Sposto Di nuovo La mia maschera E premo Insert key Come vedete Mi basta Spostare La mia maschera Di volta in volta Per allinearla Sempre Al mio trigger Come vedete Adesso si è discostata Di brutto Quindi La risposto E premo Insert key Vado indietro Di qualche fotogramma Per assicurarmi Che il movimento Sia Quello giusto Ecco Di nuovo Si discosta Quindi Sposto La maschera E premo Insert key Ritorno Al settantottesimo Frame Per vedere Se funziona Tutto correttamente Ok Ctrl Z Per nullare Perché per sbaglio Ho deformato La mia maschera Quindi Ricapitoliamo Momentaneamente Voi Come potete fare In modo Che la maschera Segui Il vostro Maschera Semplicemente Imparentandola Con un trigger Come fate Ad imparentarla Con un trigger Alt A Per deselezionare Tutto Selezionate Il trigger A Per Per Selezionare Tutte le maniglie E promette Parent Che sia Oppure Ctrl P Per usare la Shotcut Quindi per Imparentare La maschera Con un trigger Alt A Per deselezionare Tutto Selezionate Il trigger Selezionate Il trigger Il trigger In corrispondenza Del marker A Per selezionare Tutte le maniglie E poi Promette Il pulsante Parent Oppure Abbrugate Ctrl P E in questo modo Per tutto L'arco temporale In cui Il trigger Sarà attivo La maschera Segurà il Marker Ma Nell'arco temporale In cui il trigger E disattivo Semplicemente Utilizzate I keyframe Voi andate A fotogramma Per fotogramma E ogni volta Che vedete Che Il marker Esce Dalla maschera Ogni volta Il marker Esce Dalla maschera Spostate la maschera E prima del pulsante Insert key Fino alla fine Dell'animazione E poi adesso Ripercoliamo L'intera animazione Per vedere Se Il percorso È quello Proprieto Come vedete È abbastanza preciso Anche se In alcuni punti Alcune parti Del marker Escono dalla Maschera Quindi Premiamo Scale E ingrandisco In questo modo Per esempio Ecco qua E questo è il risultato Come vedete Il La maschera Segue sempre Il marker Ricapitolando Un'ultimissima volta Per essere preciso Voi dovete Solamente Imparentare La maschera A un trigger Come imparente La maschera A un trigger Direete voi Semplicemente Alt'app Per selezionare tutto Selezionate il trigger A coinparentarlo In questo caso Questo qui Per selezionare Tutte le maniglie E parent Una volta Che avete fatto questo La maschera Seguirà il trigger In tutto il periodo In cui Il trigger è attivo Quando il trigger Si disattiva Dovete andare In fotogramma Per fotogramma A spostare la maschera Facendola coincidere Con il marker Aggiungendo un keyframe Insert key Premendo il pulsante Insert key Ok Quindi adesso Ho creato una maschera Molto speciale Che segue il mio marker Dovunque gli vada Adesso Il problema è Come faccio A far scomparire il marker Voi direte Sì certo Bello Ho creato questa maschera Ma come faccio A cancellare questo marker In modo che Non si noti Che l'immagine È stata ritoccata artificialmente Andiamo Innanzitutto Nel pannello del composting Perché sì Possiamo anche lavorare da qui Però facciamo prima Lavorare Proprio nell'interfaccia Di composting Dedicata Adesso Andiamo Adesso Cosa dobbiamo fare Come al solito Andiamo in input Mask E selezioniamo La maschera Mask E adesso Come posso eliminare I miei marker Devo andare a lavorare Direttamente sulla mia clip E come posso lavorare Direttamente sulla mia Movie clip Semplicemente Adesso posso inserire Un Alpha Over Anzi Scusate Un Come abbiamo fatto prima Inserisco Un nodo di tipo Mix E lavoriamo Esattamente come abbiamo Lavorato poco fa Collego Collego La maschera Al factor E così All'interno della maschera Vedo il colore Che seleziono qui E al di fuori Vedo l'immagine originaria Come vedete Ho coperto il mio marker Certo Però io voglio Però così Si nota che C'è un ritocco artificiale Vedo un cerchetto bianco Io vorrei Avere la possibilità Di Vedere Al posto Di quel Cerchio bianco Una situazione In cui non ci sono Cioè Un'immagine del divano Priva Di palline di carta Cioè io vorrei mettere Al posto di quel cerchio bianco L'immagine di una porzione Di divano Dove non vi sono Palline di carta Come faccio? Semplicemente Posso Semplicemente Per capirlo Colleghiamo La movie clip Al viewer Ho premuto Shift Control Click E ho selezionato La movie clip In questo modo Ho collegato la movie clip Al viewer Cioè praticamente Ho premuto Shift Control E ho cliccato Sul movie clip E perciò ho collegato Il movie clip Al viewer Il che vuol dire Che adesso io vedo Semplicemente La mia movie clip Adesso facciamo un esperimento Aggiungiamo un nodo Di tipo blur Come questo E aumentiamo tantissimo La forza del blur Per esempio Insieme a un valore abbastanza alto Come per esempio 50 Come vedete La forza di questo blur Ha reso meno distinguibili Le palline Immaginiamo un valore molto più alto Come 100 O ancora di più 150 Adesso Questo blur È talmente forte Che le palline Sono diventate invisibili Perciò In parole povere Io ho sfocato La mia Il mio divano Il mio divano talmente tanto Che le mie palline Sono diventate invisibili Adesso Colleghiamo Colleghiamo di nuovo Il retuit Al viewer E io collego Questo blur C'è l'immagine Di un divano Prevo di palline Alla seconda opzione Del mix Come vedete Adesso La pallina È diventata invisibile Però Se Magari Aumento un pochino Le dimensioni del backdrop Ecco qua Aumento le dimensioni del backdrop Ecco qua Questo qui Questo punto qui È il punto in cui Prima c'era il marker Sì Il marker In realtà Non si vede più Vedo solo L'immagine Sfucata Di quello che c'è sotto Però Comunque sia Si vede ancora L'intervento di qualcosa Di artificiale Semplicemente perché Forse abbiamo messo a girare Con la sfocatura Dobbiamo trovare Il punto giusto Di sfocatura Perché Con la sfocatura Troppo bassa Il marker si vede Con una sfocatura Troppo alta Al posto del marker Si vede qualcosa Di perfettamente monocromatico Che non è realistico Prima inserire 100 per esempio Ancora troppo 50 Proviamo Vedo ancora Il marker sotto Perciò Proviamo con qualcosa Di un pochino più alto 70 per esempio Ok Però vedo ancora Il bianco del marker Proviamo con 80 Oppure Forse 100 È un risultato Abbastanza buono Il problema È che Il passato Il problema È che si vede Comunque questo cerchio Che al suo interno È perfettamente monocromatico Per rimediare Possiamo fare una cosa Molto molto semplice E possiamo aggiungere Un blur Anche la maschera Perché Essenzialmente Se io collego La maschera Al viewer Vedo questo Se io questo Cerchito bianco Lo vado a sfuocare Un pochino Potrei rendere L'effetto Un po' più piacevole Da vedere Perciò Per esempio Inseriamo 20 Intanto per provare E colleghiamo Questo E colleghiamo Quest'opzione Al factor Ok Come vediamo Adesso Vedo ancora Abbastanza bene Il mio Il mio marker Magari Prima di aumentare La size No no Così aumento il blu Lo rovino Ancora di più Il risultato Semplicemente È troppo grande La sfocatura Della mia maschera Inseriamo per esempio Una sfocatura più piccola Di 10 Ad esempio Ecco qua Adesso spero sia molto chiaro quello che abbiamo fatto Semplicemente il processo in sé è questo Io inserisco un mix Dove utilizzo come fattore la maschera Utilizzo come fattore la maschera Ed inserisco nella prima entrata del mix Quindi inserisco qui Quindi inserisco qui la clip originaria E qui la clip sfocata In più se voglio essere ancora più preciso Nel blur aggiungo anche Aggiungo un blur anche la maschera E posso aggiungere gruppi di nodi come questo Per eliminare anche gli altri marker Proviamo a eliminare per esempio Un altro marker Quindi adesso io Al posto del marker precedente Vedo solo questa zona Dove è leggermente più sfocata la mia immagine Ma per quanto io possa sembrare Un artefatto abbastanza evidente Vi renderete ben conto che Se l'immagine non è così ingrandita Quindi se per esempio mi trovo Con questo livello di ingrandimento Che è più o meno quello che ci si aspetta Che abbia Chi osserva l'immagine Perché queste sono le dimensioni naturali Beh Il fatto che si è intervenuto in un punto Si nota abbastanza poco E quindi stiamo sulla buona scala Adesso Proviamo ad eliminare un altro marker Poi magari non li elimino tutti in questa lezione Ne elimino solo un altro Tanto per farvi capire qual è il procedimento Proviamo ad eliminare per esempio Un marker Proviamo ad eliminare per esempio questo marker qui Quindi Questo marker qua Come faccio ad eliminarlo? Esattamente come abbiamo eliminato il precedente Quindi questo marker Sin dal primo frame È traccato Quindi il trigger Che segue questo marker Funziona sin dal primo fotogramma Questo trigger funziona sin dal primo fotogramma E questo ci faciliterà un po' il lavoro Adesso premo Shift A Magari adesso Crea un'altra maschera Quindi premo questo pulsante Per creare un'altra maschera E premo Shift A Per aggiungere un cerchio Ricordatevi Per ogni marker Serve una maschera diversa Adesso sposto Questo cerchio E lo posiziono qui Per esempio Per esempio La posizione in corrispondenza del marker Adesso lo scalo Perché è un po' troppo grande Quindi lo metto per esempio A questa dimensione E adesso Semplicemente Eliminiamo anche questo marker Come si fa Quindi prima di tutto Deseleziono tutto Poi seleziono Questo Poi seleziono Questo Trigger E premo A Per selezionare tutte le maniglie Della mia Maschera E premo Parent Premo Parent Vediamo per quanti fotogrammi Funziona Il mio Trigger Questa volta Quindi vediamo che funziona Per un buon numero di fotogrammi Ok Andiamo ancora avanti Per andare avanti Di un solo fotogramma Premete la freccia a destra Per andare in alto Di un solo fotogramma Premete freccia a sinistra Vediamo che Quindi Freccia a destra O freccia a sinistra Sulla tastiera Del vostro computer Per andare avanti Nell'animazione Di salti Di un frame alla volta Adesso Se mi arrivate al fotogramma 60 E il tracker Non funziona più Il tracker funziona Della fotogramma 1 a 64 E adesso Non funziona più Adesso Semplicemente io Inserisco un keyframe Premendo Insert key E come al solito Qui potete vedere Tutti i keyframe Che avete aggiunto In totale Qui in alto Nella Dopsheet Se premete Su mask Vedete i keyframe Della prima maschera E su mask .001 Della maschera Che stiamo editando adesso Quindi qui Nella prima riga Vedete tutti i keyframe Di tutte le maschere E poi Se E poi Se cliccate Accanto Ad una maschera In particolare Mi compare una riga Dove vedete Solo i keyframe Di quella maschera Quindi per esempio Adesso sto lavorando Alla maschera Mask .001 Se clicco qui Mi compare la riga Con tutti i keyframe Di questa maschera Come al solito Vado avanti E quando Il E quando Il marker Esce Fuori Dalla Mia inquadratura Io sposto La maschera In modo da compensare Adesso Andiamo ancora un po' avanti Ecco E' uscito di nuovo Dalla mia inquadratura Insert key Adesso Lo sposto di nuovo Insert key Ecco qua E' uscito di nuovo Sposto di nuovo La maschera Insert key Adesso E' uscito di nuovo Sposto la maschera Insert key Vediamo se Il risultato è accettabile Nei primi 60 fotogrammi La maschera Segue Il marker Grazie Al trigger Quindi Lo fa automaticamente Sanse Keyframes Adesso Da qui in poi Invece Lavora Con i keyframe Ecco Come vedete Per esempio Adesso Il marker Esce un pochino Dalla inquadratura Ecco qua Adesso lavora con i keyframes Lavora abbastanza bene Ok Va bene Anche questa maschera Funzione greggiamente E adesso Nascondiamo anche Questo marker Come Come al solito Ovviamente Quindi Anche qui Aggiungiamo un altro Dodo mask Questo per esempio E andiamo a selezionare E andiamo a selezionare la maschera Mask .001 Adesso Andiamo ad aggiungere Un nuovo mix Anche qua Colleghiamo La clip Sfuocata Alla seconda Colleghiamo la versione Sfuocata Della clip Alla seconda Opzione del mix Colleghiamo la maschera 001 Al factor E prendo Il blur E lo duplico E lo trasferisco Poi a questa Altra maschera In questo caso Forse La maschera è un pochino Più grande Quindi è un po' più evidente L'artefatto Magari Andiamo Nella clip E aumentiamo Un pochino In questo Nodo La quantità Di sfocatura Subita Della clip Ecco Così È troppo po' Proviamo Per esempio 180 No Proviamo 160 Ok Size Aumento un po' La size La metto a 2 Ecco fatto Poi si vede ancora Un po' La traccia Del Del ritocco Quindi magari In corrispondenza Di dove Prima c'era Questo Ma Si vede ancora Un po' Il ritocco Quindi magari Andiamo a questa Maschera E facciamo scendere Il blur Magari Mettiamo La size La sfocatura A 4 Facciamola aumentare Un altro po' No Adesso Il marker Ancora più evidente Ovviamente Bisogna fare Varie prove Per vedere Quale risultato Minimizza La visibilità Del fatto che Si abbia Del fatto che L'immagine Si è stata Ritoccata Quindi Abbia subito Un altro fatto Ok Magari Questa maschera L'avevamo realizzata Un po' Piccola In realtà Non serve Essere precisissimi Adesso Proseguiamo Nell'eliminazione Dei vari marker Quindi Magari Le elimineremo Tutti In una sola lezione Le eliminiamo Per esempio Altri due Tanto per Assicurarci Di aver capito Bene il processo Ecco Per esempio Adesso Eliminiamo Anche questo Marker qui Quindi Quindi Creiamo In primo luogo Creiamo In primo luogo Una nuova Maschera Adesso Aggiungiamo Un cerchio E lo posiziono Qui Molto bene Molto bene Adesso Come al solito Premo Alt A Per diselezionare Tutto Seleziono Questo Trigger A per Selezionare Le maniglie Parent Andiamo Andiamo avanti Vediamo il modo In cui La maschera Segue Il trigger Ma purtroppo Il tecnici Si attiva Quasi subito Quindi Iniziamo Ad aggiungere I keyframe Per vedere Qui Anche I keyframe Di questa Maschera Espandiamo L'opzione Mask .002 Adesso L'inquadratura Lo risposto E inserisco Il keyframe E riuscite Di nuovo Dall'inquadratura Lo risposto E inserisco Il keyframe Adesso Spostiamolo Sempre Inserisco Il keyframe 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 Siamo già Guardate Il ventesimo Fotogramma Insert Keyframe 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 Sempre Freccia Sempre Freccia Destra Per andare avanti Sulla fotogramma Quindi Freccia Destra Freccia Destra Freccia Destra Ecco È ora Di rispostarlo Insert Key Key Insert key Insert key Tac 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 Ecco qua Adesso Si sposta Un po' Più lentamente Quindi Possiamo Inserire Dei keyframe Un pochino Più gradi Ok Ecco Quando si muove Poco Possiamo Inserire I keyframe Un pochino Più distanziati Ecco qua Adesso Arrivati al 67esimo Fotogramma Notiamo che Si attiva Un nuovo Tracker Su questo Marker Quindi Un trigger Che prima Era disattivato Che adesso È questo trigger Qui Che è selezionato Beh Un trigger Che prima Era disattivato Adesso Si attiva Adesso Noi saremo tentati Di imparentare Questa maschera Con questo nuovo trigger Che fino a un secondo Affario Disattivato E adesso Si è appena Attivato Bene Saremo tentati Di imparentare La maschera Con questo trigger Però Non lo dovete fare Perché Ricordatevi Che se voi Fate Un Se voi Imparentate La maschera Con un trigger Dopo aver già Giunto Dei keyframe Beh Poi quei frame Non vanno più bene Si spasano Quindi In parole Poveri Ricordatevi Che Se voi Avete già Giunto Dei keyframe Non potete Imparentare Una maschera A un trigger Se avete già Giunto Dei keyframe Quindi I keyframe Devono essere Giunti Per forza Dopo Avere Imparentato La maschera A un trigger Se Avete già Giunto Dei keyframe Non potete Imparentare La maschera A un trigger E dovete Continuare A lavorare Utilizzando Appunto I keyframe Quindi Come al solito Spostiamo La camera E premiamo Insert key Finchè Essenzialmente Non arriviamo Alla fine Dell'animazione Da coppa Insert key Insert key Insert key Insert key Ricordiamo Tante volte La freccia destra Per spostarci Di un solo fotogramma In avanti Ecco qua E' finita l'animazione Adesso Vediamo se La maschera Segue bene Il mio marker Sembrerebbe Proprio Di sì Sì La maschera Segue il mio marker Alla perfezione E adesso Posso intervenire Anche su questa maschera Per cancellare Anche questo marker Quindi andiamo Di nuovo Nel mio bel Compositing E facciamo Sempre tutto Come al solito Inseriamo Un nuovo Mix Qui Adesso Aggiungiamo Un bel Nodo Mask Eccolo qui E selezioniamo E selezioniamo la nuova maschera La maschera Mask.002 Selezioniamo la maschera Mask.002 E utilizziamola come Mix Cioè colleghiamo Il factor del mix Adesso Anche in questo caso Duplico Il blur E lo applico Alla maschera E anche in questo caso Prendo la versione Sfocata Della clip E l'aggancio Alla seconda opzione Del mix E come vediamo Anche questo Marker È magicamente Scomparso Stiamo iniziando Piano piano A eliminare Il gran patto Nel nostro marker Ora voi Se vi ci concentrate Ci state attenti Si nota Che l'immagine È stata ritoccata Anche perché Non è che Il divano Sia molto facile Da ritoccare Sotto questo punto di vista Perché se per esempio Al posto del divano Ci fosse una coperta Monocromatica Sarebbe molto più semplice Ma come vedete Il divano Non è Omogeneo A livello di colorazione Ci sono alcune zone Un pochino più scure Alcune un pochino più chiare E perciò Non è molto facile Rimuovere i markeri dal divano Se al posto del divano C'era per esempio Una tovaglia Rossa Dello stesso colore In ogni punto L'aver tolto i markeri Non avrebbe lasciato Assolutamente nessuna traccia Invece come vedete Dato che il divano Alcune zone più colorate Alcune un pochino meno È un pochino più difficile Da ritoccare Qui seguiamo Riminiamo qualche altro marker Quindi Magari Andiamo all'inizio dell'animazione Ecco per esempio Questo marker qui Adesso andiamo Anche questo A nascondere Anche questo marker Perciò Come al solito Premiamo Shift A Circle E spostiamo il cerchio In modo da farlo corrispondere Con il marker Adesso Stringiamo un pochino il cerchio Premendo S Premiamo Alt A Per deselezionare tutto Selezioniamo il trigger Anzi no Scusate Control Z Control Z Per annullare Perché mi sono dimenticato Di creare una nuova maschera Quindi Control Z Per annullare Adesso Ricordatevi che dovete creare Una maschera diversa Per ogni trigger Mi ho dimenticato Criamo una nuova maschera E adesso Aggiungiamo un nuovo cerchio E spostiamo Ricordatevi Una maschera diversa Per ogni marker Per ogni marker Da eliminare Una maschera diversa Quindi Per ogni pallina di carta Da eliminare Una maschera diversa Posizioniamo qua Il nostro Cerchio Eccolo qua Adesso Alt A Per deselezionare tutto Selezioniamo Questo trigger A Per riselezionare tutte le maniglie E premiamo Parent Adesso Vediamo Per quanti Frame Funziona Nel trigger Prima di disabilitarsi Rovinosamente Sembra funzionare Ancora abbastanza bene Ecco qua Adesso si è disabilitato Il Adesso si è disabilitato Il Tracker Ma siamo stati abbastanza fortunati Perché questo trigger Ha funzionato per tantissimo tempo Dal fotogramma 1 al 78 Quindi siamo stati molto fortunati Adesso Selezioniamo la maschera Spostiamola Ed inseriamo Un keyframe Adesso Adesso Muoviamo sempre la maschera In modo che resti All'interno In modo che il marker Ne resta all'interno Quindi spostiamola sempre Ecco adesso si muove un po' più lentamente Se volete avere qui una riga Dedicata ai keyframe Di questa maschera Qua c'è il nome della maschera Su cui stiamo lavorando E noi stiamo lavorando Sulla maschera Mask.003 Se cliccate vicino al mask.003 Che è la maschera Sulla quale stiamo lavorando Vi appare qui l'elenco Di tutti i frame applicativi Andiamo avanti Un altro po' Ecco qua Siamo arrivati al 96esimo frame Dobbiamo di nuovo spostare la maschera E ecco qua Adesso siamo arrivati alla fine dell'animazione Controlliamo Che la maschera Si comporti nel modo giusto Invece no Come vediamo È leggermente costata Perciò Al primo fotogramma Correggiamo il difetto E inseriamo Un keyframe Adesso Andiamo un pochino avanti Ogni volta che vedete Che la maschera Si comporta Non come dovrebbe Inserite un keyframe Correttivo Per risolvere Proseguiamo Andiamo a vedere Se la maschera Si comporta Sempre nel modo giusto Qui Il marker È un pochino uscito Dai ranghi Perciò Spostiamo la maschera E risolviamo Ogni volta che il marker Non si trova Nella posizione sbagliata Spostate la maschera E risolvete Ecco Di nuovo Risolviamo L'ennesima volta Ecco Anche qui Spostiamo la maschera Per risolvere E adesso Va abbastanza bene Quindi Osserviamo Se va tutto bene Quindi come al certo La situazione è questa Per ogni marker Io creo Una maschera Poi Una volta che ho creato la maschera Imparento la maschera Al trigger Che segue il marker E una volta che ho imparentato la maschera Al trigger Che segue il marker Evidenzio Le porzioni Vado a vedere Vado a controllare In quali porzioni Di animazione Il Il trigger Non funziona E in quelle porzioni Di animazioni Io faccio Muovere La maschera Usando i keyframe Sempre assicurandomi Che il marker Si trovi sempre All'interno della maschera Se a un certo punto La maschera si trova Nel luogo sbagliato La sposto manualmente E inserisco un keyframe Anche in questo caso La camera va bene La maschera Si muove Nel modo migliore Si muove perfettamente Quindi torniamo di nuovo Nel compositing E anche Questa maschera La utilizziamo Per eliminare Un nuovo marker Quindi Il chiamiamo sempre Mask Chiamiamo Mask 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 .003 Inseriamo un mix Anche qua Colleghiamo la maschera Al factor L'animazione L'animazione Sfocata Alla seconda opzione Duplichiamo il blur E lo applichiamo Anche a questa nuova maschera Quindi come al solito Maschera Blur Il blur Collegato Al Collegato Al factor Del mix Alla prima opzione Del mix Il mix precedente Quindi la clip Non sfocata E alla seconda opzione Del mix La clip Sfocata Come vediamo In questo caso È molto evidente È saggiatamente evidente L'effetto Del ritocco Quindi magari Proviamo a Risolvere il problema Per esempio Duplicando questo nodo Collegando Movie clip E poi Collegando Questo nodo Alla seconda opzione Dell'ultimo Il nodo Da poter decidere Una quantità Di sfocatura Differente Per la porzione Di immagine Collegata Alla maschera Appena creata Per esempio Zero di sfocatura E dovrai vedere Ancora il maschera Appunto Adesso Proviamo ad aumentare Piano piano La sfocatura Per vedere Quanto possiamo aggiungerla Quindi per esempio Dieci di sfocatura E il marker Ancora ben Ben visibile Venti di sfocatura E dovrebbe esserlo ancora Proviamo Cinquanta di sfocatura Aspettiamo sempre Qualche istante Che blendere lab O i nostri comandi Ok Adesso già È più difficile Distinguere il marker Settanta di sfocatura Vediamo Come si comporta adesso Ottanta di sfocatura Vediamo se Va un pochino meglio Ok Adesso Prima di inserire Una curva RGB Per Far scendere un pochino La luminosità Chissà che Non si possa migliorare L'effetto Aspettiamo Aspettiamo qualche istante Che blendere lab O i nostri comandi Così è troppo Aspettiamo ancora No No RGB Non funziona nel modo corretto Cioè non fa Non è un buon risultato Prima di inserire la size ad uno Vediamo se funziona Si va abbastanza bene Proviamo la size Proviamo ad inserire la size a 0.8 Vediamo se va ancora meglio No Così si nota di più il bianco del marker sotto Proviamo invece ad aumentare la size Per esempio a 3 Tanto per vedere Se il risultato va migliore No Così si nota ancora di più l'artificio Proviamo 2.5 Comunque è questa la questione Quando si fanno lavori di questa complessità Si tende sempre a andare un po' a caso Finché non si vede Qual è il risultato migliore ottenibile Comunque vabbè Questo risultato va abbastanza bene Ok Con questa tecnica potete eliminare piano piano Ogni singolo marker Quindi senza che io adesso mi metta a eliminare ogni singolo marker Qui Per Alla fine Ne ho eliminati 4 Non serve perché io lo faccio in nuovo Per farvi capire bene come si fa Alla fine la procedura generale per eliminare i marker è questa Creo una nuova maschera E nella nuova maschera Creo questa nuova maschera Premo shift a Aggiungo una maschera di tipo circolare E mi assicuro Che Segua Il mio marker Quando esso si muova Quando esso si muove Come faccio ad assicurarmi che la maschera segue il marker quando si muove L'abbiamo visto Quasi sempre A seguire un marker c'è già un trigger Ricordate la differenza Maschera, trigger e maschere Sono cose diverse I marker sono le palline di carta I trigger sono i cosini che seguono le palline di carta Le maschere sono le maschere L'abbiamo visto oggi Cosa sono e come funzionano Quindi io ho la pallina di carta C'è già un trigger che segue la pallina di carta Quando si muove Allora io cosa faccio Semplicemente Aggiungo la maschera Aggiungo una maschera di tipo circolare Una S-Cure Una S-Cure del tipo circolare E la posiziono sopra la pallina di carta Poi cosa faccio La imparento con il mio La imparento con il trigger E in tutto l'arco temporale In cui il trigger è attivo La maschera seguirà il mio marker senza problemi Invece nei momenti in cui il trigger non è attivo Dovrò utilizzare semplicemente Beh, il mio Devo utilizzare semplicemente nient'altro che I keyframe per muovere la camera Cioè ad ogni fotogramma In ogni singolo fotogramma della mia animazione Controllo se la maschera si trova in corrispondenza del marker E se non si trova in corrispondenza del marker Io la metto in corrispondenza del marker E poi aggiungo un keyframe Per aggiungere un keyframe basta che io premo Insert K E in questo modo mi assicuro che ogni maschera Segua il marker Una volta che l'ho fatto Lavorando Con il compositing Come vedete in questo momento sul mio schermo Dovresti riuscire ad eliminare piano piano Ogni marker Uno alla volta Io in questo caso sono eliminati solo quattro Perché non serviva che mi soffermassi a eliminare né altri Ovviamente tutte le cose che abbiamo settato Nella lezione precedente Tutte le cose su cui abbiamo lavorato nella scorsa lezione Funzionano ancora Quindi se io vado Nel 97esimo fotogramma E premo F12 Dovrei vedere l'astronave Quindi proviamoci Proviamo F12 E vedo l'astronave E adesso Blender mi fa i rendering anche del lombro Eccetera eccetera Quindi aspetto qualche istante Adesso Blender mi fa anche i rendering Della parte dove c'è l'ombra dell'astronave In questo caso forse l'ombra Non si vede In questo punto particolare dell'animazione Ma non è un problema Aspetto qualche istante Mi fa il compositing Ci ragiona un attimo Elabora l'immagine E questo è il risultato Come vedo Non è che sia perfetto Nel modo in cui sono stati eliminati I miei marker In effetti in questo caso Si nota abbastanza L'effetto del cambiamento Soprattutto perché Questo Soprattutto perché Questo marker in particolare Non si trova all'interno della maschera Di riferimento Intervengo immediatamente Per compensare Nel pannello di masking Quindi Vediamo di che maschera si tratta La maschera .002 E al 97 E la ingrandisco un po' E inserisco Il Keyframe Anche il primo fotogramma Magari la rendo un pochino più grande E inserisco il keyframe Adesso Prendiamo di nuovo F12 Scusate Vado sempre All'ultimo fotogramma Per avere La stessa inquadratura Quindi Vado sempre All'ultimo fotogramma Premo F12 Molto bene Adesso in questo punto Della mia immagine Si nota molto meno Il fatto che l'immagine Si è ritoccata Però Qui e qui In questi due punti L'effetto è ancora un po' Spiazzante Si nota molto bene Che ci sia qualche problema Perciò Devo Provare a risolvere Quindi per esempio Inserisco Qui uno Uno Way Saturation Value E Faccio Scendere un pochino La luminosità In modo che questa pozione D'immagine sia un po' Meno bianca Perché quello poi È il bianco del marker No Temo che l'effetto Non sia desiderato Allora proviamo ad aumentare La sfogatura A 160 Vediamo se va un pochino meglio Sì ma non troppo Anche perché una piccola Anche perché Credo che Varga sempre la pena Di aumentare Anche le dimensioni Di quest'altro Trigger Di quest'altra maschera Quindi andiamo In quest'altra maschera E aumentiamone Un pochino Le dimensioni Insert key E anche All'ultimo fotogramma Mi assicuro Che le dimensioni Siano un pochino Maggiore Adesso Proviamo a premere Anzi Adesso Andiamo Alla maschera 003 Aumentiamo La sfocatura Della maschera 003 Per esempio Fino a 40 E proviamo a premere Di nuovo F12 Vediamo se finalmente Tiene un risultato Un pochino Più bello Da vedere Quindi Aspettiamo Qualche altro Secondo E poi Potremmo gustarci Il nostro Risultato Quindi aspettiamo Blender step Return Composting E qua Come vediamo L'effetto È un pochino Migliore L'effetto È un pochino Migliore Poi Ovviamente Siete liberissimi Di lanciarvi Nel composting Per cercare Di migliorarlo Ancora Ovviamente Anzi Io vi consiglio Di provare A lanciarvi Nel Compositor Di Blender Per cercare Di vedere Se riuscite a migliorare L'effetto E rendere ancora Meno evidente La presenza Di questi Ritocchi Quindi di queste Modifiche Che sono state Effettuate Anche questa Anche la maschera Che abbiamo Posizionato qui Evidentemente È un po' troppo Piccola Quindi Anche qua Andiamo Nella Prima maschera Che abbiamo Inserito La maschera Mask Magari La rendo Un pochino Più grande E inserisco Un keyframe Anche qua La ingrandisco Un po' E inserisco Un altro keyframe Magari Proviamo Anche all'ultimo Fotogramma Ovviamente La ingrandisco Anche qui Ovviamente Dovete sempre Premere Insert key Quando fate Una modifica Proviamo a premere Per l'ennesima volta F12 Mentre stiamo All'ultimo Fotogramma Quindi F12 Vediamo se Adesso finalmente Teniamo il Tart Tanto Abognato La teniamo Aspettiamo Qualche altro Istante Lo so Ci vuole un po' Perché siamo In cycles E ecco Già qui Il risultato È un pochino Migliore Adesso Se Già adesso Il risultato È un pochino Migliore Come vediamo Anche qua C'è un marker E per esempio In questo punto In questo punto Nella parte Sinistra Nella parte Destra Dell'immagine L'eliminazione Dei marker Quasi non ha lasciato Traccia Se non sapessimo Che c'erano Dei marker Quasi non ce li Accolgeremo Da quest'altra Parte dell'immagine Abbiamo lasciato Una traccia Un pochino Più evidente Quindi si vede Un po' Di più Che c'erano Dei marker Però vabbè Pazienza Siete liberi Di cercare Di ottenere Un risultato Un po' Più preciso Andando a Modificare Questo albero Di nodi Ovviamente Come ho già detto Molto probabilmente Il problema Principale È che È proprio Il materiale Di cui era fatto Il divano Che Perché Il materiale Di cui era fatto Il divano Come vi ho già detto È formato Da tante Chiazze Di colore Leggermente Diverse Che mettono Nel risalto Il fatto Che l'immagine Sia stata Ritoccata Artificialmente Compromettendo Nel realismo Comunque sia Alla fine Lo scopo Della lezione Era farvi vedere Come si possono Eliminare In generale Marker Spero Che l'abbiate Trovata interessante Perciò Io vi invito A continuare A sperimentare A provare Con Appunto Per quanto riguarda Il WF Eats Soprattutto Vi invito Anche A provare In alcuni Fotogrammi Della vostra Animazione E vedere Se in alcuni Punti I Andare a vedere Se in alcuni Punti I marker Si vedono Più di quanto Dovrebbero Per esempio In questo caso Questo marker Che dovrebbe essere Cancellato È molto evidente Quindi Al sessantesimo Fotogramma Dobbiamo andare A vedere Se la maschera Relativa In questo caso Questa Non sia troppo piccola Proviamo a ingrandirlo Un po' Iniziamo Un keyframe E proviamo A premere F12 O meglio A vedere Se il risultato È migliorato Ecco In tempo reale Vediamo immediatamente Che risultato è migliore Non serve fare il rendering Per vedere Se è cambiato Il risultato Già Dal preview Del compositing Vediamo che Siamo riusciti A migliorare Un pochino La cosa Poi anche La maschera Mask Questa qui Lascia scoperto Part del Del marco Quindi Anche in questo caso Devo andare A questa Devo andare A questa maschera E scalarla un po' Adesso andiamo A controllare Se il risultato È un pochino migliore Quindi vi invito Come ho già detto A saltare In alcune porzioni Della vostra Della vostra Animazione Della vostra Timeline E nel caso Vedete Che vi sono Alcuni punti In cui L'immagine È un po' Difettosa In cui si vedono Dei maschera Che non si dovrebbero vedere Intervenite Quindi per esempio Aumentando Le dimensioni Della maschera Per cercare Di risolvere Il problema In particolare Se vedete Che un maschera Si vede Anche se l'avete coperto Con una maschera Semplicemente Prendete con la maschera E scalatela In modo da renderla Più grande Quasi sempre In questo modo Il problema Risolve Ok E ovviamente Andando così Potete Come ho detto Saltate in varie parti Della vostra animazione Ecco Anche in questo caso Questo marker È semiscoperto Ma dovrebbe essere coperto Quindi andiamo Sempre nella maschera 003 E scaliamola di nuovo E vediamo Se adesso Il risultato è migliore Ecco Adesso Si va un pochino meglio Ricordiamoci sempre Di inserire Il keyframe Ecco E poi Potete sempre Programmare F12 Per effettuare Il vostro Miraviglioso rendering E ammirare Il risultato Di tanto Duro lavoro Quindi Questa lezione Appunto Si basava Sull'arte Di muovere I marker Come abbiamo visto Non è molto semplice E in alcune situazioni È quasi impossibile Rendere invisibile Il ritocco Infatti Molto spesso I marker Non si posizionano A caso Ma si posizionano In determinate zone Dove si è già consapevoli Che rimuoverli Sarà facile Perché esempio Io in questo caso Forse ho sbagliato A mettere sul divano Se li avessi messi Se avessi messo Per esempio Dei pezzettini Di cartone Nero Su pavimento Bianco Avrei ottenuto Un risultato Altrettanto preciso Ma rimuovere Dei pezzettini Di cartone Nero Da un pavimento Bianco Sicuramente È molto più semplice Perché il pavimento Bianco È di un colore Omogeneo Perciò rimuovere Un marker Posizionato sul divano Potrebbe essere Un po' più complicato Per il semplice motivo Che sul divano Ci sono sfumature Di colori diverso Mentre Se li avessi Posizionati sul pavimento Inserendo per esempio Pezzettini di cartone Nero Forse sarebbe stato Più facile Rimuoverli Perché più una superficie È Composta Da sfumature Aromatiche diverse Più rimuovere I marker Che vi sono lì È complicato In questo caso Il divano È composto Da sfumature Aromatiche diverse Quindi rimuovere I marker È complicato Anche qui Intravedo un pezzettino Di marker scoperto Quindi Vado a Quindi intervengo Un secondo Per Assicurarmi Di riuscire A Risolvere il problema Ecco qua Il marker Lo scalo E Rieffetto il rendering E vediamo se Adesso Anche questo problema È risorto Come avete intuito Comunque Quello del VFX Quindi dell'applicazione Di effetti speciali È comunque Una tecnica Che richiede Veramente tanto tempo Tanta pazienza Anche perché Calcolate quante ore E passaggi Abbiamo perso Per aggiungere Un astronave Che vola un divano In un'animazione In un'animazione Di 97 fotogrammi Se l'animazione Fosse molto più lunga I passaggi sarebbero Gli stessi Le tecniche Sarebbero le stesse Però Il lavoro Sarebbe molto più lungo Cioè per ogni maschera Dovremo aggiungere Più keyframe Dovremo aggiungere Più trickery In generale Forse servirebbero Anche più marker Comunque sia È abbastanza È tanto più complicato Quanto l'animazione È lunga E poi abbiamo visto Oggi che Forse i marker Sarebbe consigliabile Posizionarli Su superfici Monocromatiche E omogenee A livello di illuminazione Nel mio caso Ho scelto Una superficie Non monocromatica E non omogenee A livello di illuminazione E questo Ha reso più complicato Rimuovere alcuni Marker In modo corretto Comunque sia Anche questa Forza Una regola Da mettere da parte Cerchiamo di posizionare I marker Su superfici Monocromatiche Con le stesse sfumature Dovunque Io Non l'ho fatto E perci è stato Abbastanza complicato Rimuovere alcuni marker Senza lasciare traccia Dell'operazione Vedendo che Anche qui La parte di un marker Si vede ancora Perciò Intervengo per l'ennesima volta Reformando proprio la maschera E mi devo ricordare Soprattutto di premere Insert key Adesso Vado nel preview Del composting Per vedere se il risultato È migliorato Si Adesso nel preview Del composting Già mi accorgo Che il problema Non c'è più Perché per assequenza Che il problema Non ci sia più Non so che fare I rendering Già vedendo il preview Del composting Già mi accorgo Che ho risolto il problema Premo Alfre 12 Spero per l'ultima volta Per questa lezione E ammiro Il rendering Finale Certo Se volessimo proprio di Creare il lavoro finito Dovremmo rimorre Anche gli altri marker Ma è una cosa Che non sarebbe Che lo faccia Perché il mio scopo Era farvi vedere A voi Far vedere a voi Come svolgere L'operazione Di rimozione Dei marker E perciò Non sarebbe Adesso Mi metta A eliminare Ogni singolo marker Perciò spero Che anche questa lezione L'abbiate Trovata interessante Spero In ogni caso Che abbiate capito E che vi siano Chiari I vari passaggi Che abbiamo sborto Se avete qualche dubbio Non esitate a scrivermi Nei commenti E sarò felicissimo Di rispondere E perciò Con queste parole Dovrebbe finire Il nostro cammino All'interno Del WFITZ E ok Quindi chiudiamo Il nostro percorso Nella creazione Degli effetti speciali Ma non vi preoccupate Perché già Nella prossima lezione Iniziamo un percorso Altrettanto interessante Alla scoperta Di come funziona Il video editing Di Blender Perciò Non mancate Alla prossima lezione Di questo corso Di Eagle Sera Alla prossima lezione